Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché praticamente è sempre stata una tradizione ascoltare questo podcast il mattino andando a scuola lunedì, allora lo ascolto. Per risentire quello che hai detto più che altro. Sì, anche per sentire le mie stronzate. Poi sono un narcisista, mi piace. Ah, ok. Allora è già più comprensibile. No, comunque lo ascolto sempre volentieri perché comunque l'ho sempre ascoltato lunedì mattina andando al lavoro. Sì. Buongiorno. Parlando di lavoro, buongiorno anche ad Andrea Negro. Non vedo cosa c'entri, però va bene. Esatto. Buonanotte a tutti piano piano sottovoce. Ma fa un cazzo tua madre, non fa un cazzo. Tu non lavori, tu studi. Vabbè, adesso momentaneamente quello che non fa niente sono io. Sì. Ah, è vero, è vero. Purtroppo ci aggiungerei. In differenza di Negro hai lavorato ogni invita tua. Negro l'ho lavorato anch'io comunque. Ma stai in cazzo. Poi io sono ancora di cazzo. Volete finirla, per favore? Vabbè. Allora, siamo... Ma insultare Negro va sempre bene. Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Però siamo qui per parlare di quello che è successo in questa settimana e direi che di cosa ne sono successe, specialmente in WWE. Bene. L'eroe di Fabio non è andato bene. Sarebbe l'eroe di Fabio? Però Fabio lo diffusa. Sarebbe l'eroe di... Ah, Roma Race. Allora, gente. Sì, cosa? Roma Race rimarrà nel futuro di questo sport. Ma... Può darsi. Speriamo che per lui... Vai. Spero per lui che non venga ricordato come Lex Luger. Contando come sta andando. Eh, insomma. Dipende. Spero che non faccia la fine di Lex Luger più che altro. Spero anche io che non faccia la fine di Lex Luger. A livello fisico anche più che altro. No, dico. Lex Luger aveva sue responsabilità. Qui le responsabilità di Trepp erano più altrui. Sì. Beh, diciamo che ha anche i suoi limiti, diciamo così. Il buon Roma Race, non solo Lex Luger. No, sai qual è il punto in comune tra i due? Sì. Erika intanto lavora per levare l'eco perché... Faccio possibile, un attimo. Esatto. No, il punto in comune tra i due è che praticamente sono venuti tutti e due in un modo o nell'altro Sì. Dopo la Megastar delle Megastar. Sì. Che era Hogan ai tempi di Luger. Sì. E Sina e Reigns. Uh-huh. E quindi non... Il famoso Burden non è facile da portare. Sì, sì, è vero. Pienamente d'accordo. È anche vero però che... Non è solo quello. Non è solo quello. Non è solo quello, assolutamente. Non è assolutamente quello. E comunque anche la presa su... fa fatica a prendere sul pubblico perché il pubblico è cambiato nel corso degli anni e vuole qualcosa di diverso. Da il tipico tizio grande e grosso che piace a Cavi. Grande e grosso e mona. Dipende il pubblico a cui ti riferisci tu. Il pubblico di riferimento qual è? Il pubblico di riferimento è quello che vedi nelle arene che comunque non risponde a e sbagli. Non è solo quello. Non è solo quello. Sbagli. Non è quello delle arene il pubblico di riferimento a David Aby. Ho capito, ma quelli che ti vanno a vedere è quello e il pubblico è quello. Sì, ma sono 15-20 mila... No, meno anche. 10-15 mila per show contro 3 milioni. Devi anche lavorare per quello. Ho capito, però non mi sembra che gli altri 3 milioni lo stiano sostenendo come sostengono i verano Sina. No, vero. È quello che si intende. Ma neanche Sina lo sostenevano. Però Sina comunque a livello di vendita era molto migliore di Reigns. Certamente. Sina a livello di alto era molto... Ma nessuno può essere a livello di Sina più che altro, se partiamo da questo punto di vista. Siamo d'accordo. Però c'è comunque gente che vende di più di Reigns. Sì. Ma insomma. Chi? Nella compagnia no. Chi? Ambrose? No. A livello di vendita non vende di Ambrose? No, è Reigns. Reigns vende di più di Ambrose in compagnia. Magari non molto, ma vende di più di Ambrose. Il problema è che sono distanziati tantissimo da Sina. Quello è il guaio. Esatto. Comunque, poi della WWE parleremo... Mi collegi questo? Fai il possibile per l'eco perché... Ragazzi, più di così non posso fare? Aspetta. Io l'audio l'ho modificato più volte. Non ci posso fare nulla, sfortunatamente. Anche perché non mi prende il microfono. Cioè, mi prende solo il... Come posso dire? Cancellazione dell'eco l'ho messo. Riduzione del rumor. Posso tentare di attenuare. Comunque vediamo... Aspetta che provo io. Ecco, esatto. No, io ho messo... Ho messo... Ho tolto tutto e niente. Continuo a darmi... Vabbè, comunque, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Poi ne parliamo. Anche perché non penso che ne fotta molto a nessuno di questa cosa. Prima di parlare però di WWE, ci arriveremo più avanti nel podcast, direi di aprire il nostro consueto spazio dedicato al programma più bello della storia dell'universo, più che altro a livello di wrestling. Apriamo lo spazio. No, noi di Impact non parliamo. No, infatti non è Impact. Infatti non è Impact. Però parliamo e apriamo. C'è stato il più grande turn della storia dell'umanità, Impact, a quanto mandato. Non ho visto Impact, quindi non so di cosa stai parlando. È tornato Spad. Ah, ok, vabbè. Buon per loro. Ci sono 210.000 ragioni per non giudicare granché questo turno, anche se magari poi è stato fatto bene. Volevo più che altro aprire lo spazio dedicato a Lucia Underground. Allora, è stata una puntata meno bella rispetto ad altre, più che altro. Però c'è un segmento di questa puntata. Quale? Quale? Ovviamente. C'è un segmento che è stato leggendario. Ma anche quello con questa che mi è piaciuto. Quello, sì, va bene, però il, come si chiama, il, posso, mi piace poco il fatto che lei si teletrasporti. Vabbè che, vabbè, ci sta nel, ci sta nel universo. Allora, lei ha i poteri, quindi ci può stare. Poteri di cose. Anche perché nel momento che la pesteranno forte nel rig, arriverà, credo. Vedremo, vedremo. Dipende chi sarà più che altro a pestarla forte. Esatto, credo Ivelisse. Ivelisse? Beh, sì. Stanno teserando comunque la loro resa dei conti da un bel po'. Per me non è scusa neanche che peta con gli spezzi il braccio. Prima o poi, ma credo che se dovevano fare un match faranno lei contro Ivelisse. Più che altro è che, ripeto, con Ivelisse è un po' che la stanno facendo annusare questa cosa. Più che altro, il segmento di Dario Quetto è già iniziato bene. Possiamo, credo, far partire l'audio. Un attimo. Urla belluine. Si vede che i morti stanno aumentando. Sì, esatto. In maniera esponenziale. Ma Tanzino deve mangiare, effettivamente. Quindi da quel punto di vista... Mi ha fatto un sacco ridere. Come? No. Mi ha fatto un sacco ridere quando fa. No, è un bel ricordo. Perché è lì che ho scoperto quanto mi piace. Quanto io adori la violenza. Io adoro la violenza. Esatto. Violencer. Adesso dovrebbe essere sparito l'eco adesso. Non so se mi confermate. Sì. Ok. Sì, sì, sì. Più che altro abbiamo finalmente scoperto il significato del Torro. Del famoso Torro Rosso che Dario si porta dietro da un po' di tempo a questa parte. È stata l'arma con cui praticamente il fratello di Dario Queto, Matanza, credo prima dei poteri. Perché se non penso avrebbe avuto bisogno del Torro se avesse avuto i poteri. Esatto. Quindi prima dei poteri ha si è sostanzialmente liberato di sua madre. E poi Dario Queto da buon maniaco a livello mentale ha detto, quando Black Lotus ha detto, è una storia tristissima. No, non è vero, è una storia felicissima. Perché è in quel momento che ho scoperto di adorare la violenza. Questo di Granlung è il segmento più bello dell'intera puntata. No, non è vero. Ah, ok, credevo dell'intera annata. No, no, dell'intera puntata. Guarda che a me piace di più questo rispetto ai 60 dollari. No, no, ai 60 dollari sono i fatti minimi. Questo è più bello. A me è piaciuto perché ha cercato di dare un senso. Ha cercato di dare un senso a che, scusa Fabio? No, alla storia di Dario. Dario, Fabio, stai saltando? Sì, salti. Ah, scusa. Ma vieni da iPad, non c'hai problemi da iPad. Vabbè, se tu hai un PC che non funziona, non è un problema nostro. No, il mio PC funziona benissimo e sono da browser. Veramente no. Sono da browser in questo momento. Vabbè. Quindi da browser. Allora non è il PC che funziona, è il browser che non ti dà problemi. Comunque. Vabbè, sono da browser e sono da PC che funziona. Andiamo avanti. È la connessione superiore di Fabio questa. Ma se l'app fa schifo, non è colpa. No, non è l'app. Guarda che secondo me è la sua cuffia. Ma se l'hai usata anche la settimana scorsa e non funzionava. No. Vedi che salti? Cercando di parlare salti. Non vorrei che ci sia, sai cosa, regolato il, come si chiama, aspetta, vai su voce e togli la sensibilità dell'ingresso. Perché non vorrei che sia quella che ti toglie. Sto giocando a un gioco. Te l'ho per Fandango. Vabbè, ho visto cartelli più strani, eh. Regolatelo al minimo. L'ho messa minima la sensibilità. Al minimo, così almeno non ti dovremmo saltare. Adesso come arrivo? Normale, più che altro almeno non dovresti saltare. State ascoltando Casa Tutto Wrestling. Vabbè, noi sono così, le prove tecniche di trasmissione. Vabbè, ma un bel chi se ne frega del fatto che facciamo le prove tecniche in onda, vogliamo anche aggiungerle. Allora, altre cose di Lucian Underground. Non è stata una grandissima settimana dal punto di vista qualitativo? O meglio, non è stata una brutta puntata? No, sono andate avanti comunque le storie. Hanno proseguito le storyline. Esatto, c'è quella tra Decollim Cage e Coso che va avanti. con, tra l'altro, il debutto di una nuova Lucia D'Ores femmina. Che è tipo la campionessa femminile della AAA. Taglia, sì, Taglia Valkyrie. Sembra Donatella Rettore, sembra. Abbasso il microfono. Mamma mia. Allora, prima doveva essere raccontato alto? Pirla, hai alzato il volume, non la sensibilità. No, no, ho cambiato postazione. Eh, minchia, abbassati, sei altissimo. Abbassati il volume, ti abbasso anche io da qua, perché arrivi veramente altissimo. Volume d'ingresso o d'uscita? Di uscita, semmai. Ok. Comunque, ti ho messo al minimo, adesso dovresti arrivare, perché se anche non mi urdi nell'orecchia mi fai una grottesia. Comunque, è sicuramente meglio di Copramoon. Vabbè, non ci vuole molto. No, Taglia Valkyrie, se non ricordo male, è stata allenata da Landstorm. Non vorrei dire una fesseria. Ah, ok. Controllo un attimo. Controllo un attimo. Però credo che sia stata... Sì, confermo. È stata allenata da Landstorm alla Storm Wrestling Academy. È uscita da lì nel 2010. Ha 32 anni, quindi non è proprio giovanissimissimissimissima. E Copramoon è un servizio. Smettila. Cosa c'entra? E Copramoon. Perché se no, perché Taglia Valkyrie somiglia un pochino alla giovane Donatella Rettore. Ma anche no. Non provo per niente. Perché voi non l'avete mai visto... Non urlare, che stai distorcendo in una maniera pazzesca. Parla normale. Ma arrivo troppo piano, arrivo troppo piano. No, hai regolato il microfono maluccio, purtroppo. Comunque adesso provo a giocare con l'audio. Ok, adesso come senti? No, devo giocare con l'audio più caldo. Parla normalmente, perché se urli distorci. Comunque, andiamo avanti. Lei credo abbia vinto il titolo, ha vinto nel 2013 a Raider Reyes, se non ricordo male. E l'ha... No, scusa, ho detto una cazzata. Non l'ha vinto nel 2013, l'ha vinto nel 2014, ha battuto Fabia Pascia, ha vinto il Reina de Reina's Championship, che è praticamente il suo primo titolo. Ed è praticamente la campionessa femminile. praticamente è la regina delle regine, è il titolo in spagnolo. La reina de Reina's l'ha vinto il 17 agosto 2014 e la campionessa da più di 550 giorni. In una cintura che è stata detenuta prima di lei da Fabia Pasci, da Sexy Star, che l'ha tenuto per un anno e più, poi è stato reso vacante per motivi non meglio precisati. E prima di Sexy Star la campionessa, pensate che era Pimpinella e Scarlata. E fin qui. Ma che è un uomo, tra l'altro. Dettagli, dettagli trascurabili. L'ha tenuto... Vai, scusa. Anche Santina Amarella poteva benissimo essere... Dettagli. Vabbè, Fabio potrebbe non essere... Vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo che il titolo... Harvey Whippleman. Esatto, vi ricordo che il titolo femminile di Davina B è stato detenuto da Harvey Whippleman, nei panni di Arvina. L'ha detenuto, credo, per 3-4 giorni, non di più. Adesso controllo un attimo l'elenco delle campionesse femminili da BWI. Nel 1900... Ricordiamo anche che Ricciang... No, l'ha vinto il 31 gennaio e l'ha perso il giorno dopo a SmackDown, direttamente con Jackie. Ricordo anche che Ricciang è stato per un anno e mezzo campione delle knockout di coppia. Non bisogna mai difenderlo, tra l'altro. Senza praticamente mai difenderlo. Esattamente, esattamente. Comunque, no, hanno parlato avanti le storyline, per quanto riguarda Luciano Nelgao. La prossima settimana dovremmo avere il match tra Phoenix e King Querno, che è un ladder match. Sia quello... Sì, ladder match per il Gift of the Gods Championship. Quello dovremmo avere, dovremmo avere anche il match tra Pentagon e Puma. Sì, esatto. Quindi sarà comunque la puntata bella carica. La puntata è importante dal punto di vista delle storyline. Sì. Parlando di puntate cariche a livello di storyline, NXT non è stato questo. No. Altro. No, no. Decisamente non. No, il main event è assoluto il main event. No, il main event è stato orretto. Sì, ormai sta diventando... Lo show settimanale sta diventando sempre più noioso, a meno che non hai dei match veramente... Ma sai qual è la questione? È uno show che deve arrivare al suo picco con i takeover. Sì, esatto. Il discorso è quello. Quando hai tre mesi, praticamente, di show... Rientra la questione, secondo me, che i takeover cominciano a diventare un po' troppo larghi nel tempo per la quantità e la qualità di lottatori che ci sono. Sì, esatto, esattamente. Purtroppo il... Vai. Che purtroppo il limita di show settimanali ha essenzialmente un... Una serie di... Due match interessanti e gli altri sono tutti squash match. Esatto, gli altri sono Jobber contro... Jobber, tra l'altro quasi sempre dell'Evolve, contro la Superstar di NXT che deve essere elevata. Beh, mettiamo che fanno un ottimo lavoro di, diciamo, di costruzione per quanto riguarda il takeover. E, sfortunatamente, per arrivare a takeover ci va di mezzo lo show settimanale che, sfortunatamente, è quello che è dal punto di vista puramente qualitativo. Non è male, perché comunque vanno avanti con le storyline. Però dal punto di vista del lottato effettivamente lascia... Anche i promo, comunque, tra... Nelle puntate di NXT non sono male, portano avanti le storyline e sono comunque bei promo. Ripeto, la qualità media del lottato è quella che è nel suo settimane. Comunque, per dire, anche a Takeover... Non a Takeover, scusatemi. Anche a... Come... Non mi viene una parola. Anche a Luce Underground, il livello del lottato quest'anno non è eccezionale, se andiamo a vedere. A parte la prima puntata, però dalla prima puntata in poi di grandissimo wrestling oggettivamente non si è visto. Forse è solo ladder tra Querno e coso, eh. Il Last Luce on Stenny. Il Last Luce on Stenny, sì. Il grande match che c'è stato finora. Ma anche... Vabbè, credo il main event tra Pentagon e Puma. Il resto è stato abbastanza... Abbastanza dimenticabile oggettivamente. Ah, sì, cioè... Ma no, normale, buono, niente di che. Sì, io questa settimana obiettivamente non ricordo un match. Ricordo più la storyline di Lucia. Ah, sì, infatti. Vabbè, dei Colleen Cage contro... 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 Anche contro... Sì, ma è stato un buon match per i livelli di Lucia Underground. È stato il match che... Cioè, un match buono. Non di più, non mi spingo più del buono. Sì, no, infatti, non è stato niente di che fino a... Ripeto, fino a questo momento. Sto cercando più che altro una cosa che volevo mandare in onda, sempre da Lucia Underground. Però non riesco sfortunatamente a... Jack Evans che si autoannuncia? No, no, non è Jack Evans. È Evans avanti dieci anni. Non è Jack Evans che si autoannuncia, è un'altra cosa. Jack Evans avanti dieci anni, ragazzi. Scusami? Jack Evans è avanti dieci anni. Addirittura? Io adoro Jack Evans. Jack Evans che comunque è la cui striscia vincente stanno andando avanti, eh? Sì, eh. Esatto. Mentre invece non sta andando avanti quella di PJ Black. Probabilmente per motivi precisi. Però alla fin fine, alla fin fine, effettivamente lui è arrivato a, come si chiama, a Lucia Underground. Fino a questo momento è esattamente quello che era in David David. Cioè un jobber. Cioè un jobber alla fin fine. Lo sono spoilerato in macchina con Fabio venendo da te cosa succederà a PJ Black. Ah sì? Eh sì. Muore. No, no. Se vuoi te lo dico cosa succede. No, no, no. Lasciami no spoiler. Vedremo cosa succederà. No, più che altro, come detto prima, volevo mandare in onda un'altra cosa da Lucia Underground. L'altra cosa meravigliosa di questa puntata. Possiamo, credo, mandare il contributo. Ah, grande. Il venditore di auto. Perché? Famous B. Io spero che qualcuno abbia chiamato quel numero. Perché c'era Forza Free Get Fame. Spero che qualcuno l'abbia chiamato. Dovesti vedere sui forum americani. Sì, magari, come si chiama? Ha deciso di chiamare Forza Free Get Fame. Qualcuno l'ha fatto, evidentemente. Qualcuno l'ha fatto. E te sai cosa succede? Tu sai i risultati più avanti di Lucia Underground? Eh, li ho dimenticati. Ok, allora non te lo scrivo. Che cosa ho scoperto? Li ho dimenticati, sfortunatamente. Ok, allora non ti scrivi cosa avevo scoperto su Peter Black. No, 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 aspetta, aspetta. Sì, sì, non me ne ricordo, onestamente. Ok. Onestamente non me ne ricordo. Comunque c'è questa persona che adesso sta chiamando... Questo è quello che c'è nel numero. Ma non è bello quanto la hotline della Ring of Honor, però... Quella è abbastanza inarrivabile, però... La hotline della Ring of Honor è imbattibile. Sì, sì. Diciamo, tornando a NXT, abbiamo avuto uno dei main eventi più brutti della storia del mondo, probabilmente. Ovvero questo tag team match tra Bayley e Carmella contro Eva Marie e Nia Jax. Finalmente si è affermata la più grande lottatrice della storia. Più che altro, il problema era uno dei tanti, era uno di quelli di cui parlavamo ai tempi. Quando dicevamo che NXT a un certo punto avrebbe raggiunto il picco qualitativo. E a scendere dovevi per forza andare, soprattutto quando la gente sarebbe andata su. Diciamo che la divisione femminile ha toccato un rock bottom che non mi immaginavo neanche. Però è un bel rock bottom quello che stanno avendo in questo periodo. Perché alla fine, a meno che non metti dentro... Asgah va praticamente quasi solo squash match. Sì. E poi comunque avrà... Penso andrà per il titolo in quelli di Dallas. Sì, sì. Ma allora, il problema è questo. Hai due persone brave in questa categoria, in questo momento. E le altre che sono o jobber, o jobber tipo la Diana Perazzo, come si chiama. Sì, Diana Perazzo, sì. Diana Perazzo, quella lì che è una jobber praticamente perché ha fatto due match. Il primo è morta, il secondo è morta di nuovo. Però è durata leggermente di più. La bandi contro Ascalo, credo, anche. Cioè praticamente hai due buone e le altre che fanno tutte abbastanza schifo. Sì. O comunque per ora non abbiamo visto niente di buono. Sì. E la divisione è abbastanza... In realtà sono quattro, perché quando hai messo Emma e Dana Brooke contro Ascalo è venuta fuori una gran bella fine. Il problema è che Dana Brooke che fine ha fatto? No, perché abbia ricominciato a lottare. Dana Brooke era infortunata. Sì, era, ma... Sì, però il match contro... No, aspetta. Il match tra Emma e Dana Brooke non mi ricordo che non... Cioè, è stato buono ma niente di eccezionale, almeno. Emma e Dana Brooke? Emma e Asuka. Emma e Asuka. Quello di Londra. No, quello di Londra è stato bello, dai. Non lo ricordo. Quello è stato bello con il match. Non è stato un match a Madonna, esatto. Non è stato il più bello che hanno fatto NXT per ovvi motivi, però è stato un buon match. Anzi, forse è stato... Non me lo ricordo. Forse è stato insieme al main event è stato la roba migliore della car di Londra, secondo me. Di Londra, sì. Assolutamente. Io intervengo a difesa della categoria. Sì. Ma da Mark o... No, 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 ma da maniera smart. Sì. È chiaro che ci sono delle particolari ondate. Nel wrestling maschile, nella parte maschile NXT, puoi comunque sostituire, perché comunque di gente brava in giro ce n'è. Sì. Il wrestling femminile è più complicato. Non trovi gente brava. Soprattutto perché le altre compagnie, a parte la Shimmer, che è proprio tutta di donne, non danno questo spazio alle ragazze. Quindi, anche la Shanker, non danno tutto questo spazio alle ragazze. E le ragazze, comunque, sono delle altre compagnie, o sono provenienti da altre esperienze, oppure sono ragazze che si devono fare. C'è l'esempio, mi vedi, di Sasha Benz, che era già piccola di suo, ma era ancora più magra e minuta. Quando era nelle indies. Quindi, è un lavoro, secondo me, più a lungo termine quello che bisogna fare con le ragazze, con le divas. Con i maschi, invece, puoi prendere gente dovunque e vai sul sito. Però, se come tu hai detto, prendi qualcuna dalla Shimmer, invece che prendersi la gente che... Dalla Shine. Dalla Shine, più che dalla Shimmer. Eh, però, sono ragazze ancora che si devono formare. Cioè, ho fatto il tempo di Sasha Benz era ancora più magra di quello che era. Bailey era, anche lei, la metà di quella che è. Erano tutte acerbe prima di arrivare ad NXT. E c'è voluto tanto tempo prima che si affermasse. Comunque, erano lì già dei tempi della FCW queste ragazze che quindi bisogna... Capito, ma tu in questi anni, in questi anni, NXT hai costruito un brand sulle donne. In questo momento, il brand sulle donne è praticamente... Non ti dico che è morto, che rischia di essere morto, ma è molto. Loro volevano portarlo nel main roster. Il problema è che non ci sono riusciti. Almeno fino a questo momento. Eh, ne riparliamo dopo Resto in Mania, quando Bailey salirà del main roster. Esatto. Poi, ovviamente, si dovrà... Ovviamente, si dovrà... È un lus della questione. No, sai cosa? Bisogna ripartire da zero in NXT, perché comunque... Eh sì. Prima o poi, sta gente dove puoi portare nel main roster. No, no, ma non ti dico che... Allora, non ti dico che... Non ti dico... Cioè, ti dico che forse, in quel periodo lì, dove ti sei concentrato solo su quelle quattro, era meglio fare... Cercare di costruire un attimo quelle che arrivavano dopo. Eh, ma ci va... Ma ci va... Ma ci va tempo. Non ci vuole tempo. Ci va tempo, più che altro. Roma non è stata costruita in un giorno. Ci va tempo. Cioè, la stessa Charlotte ci hanno messo, più che altro... Ci hanno messo anche lei qualche anno, più che altro. Poi, la fortuna loro, per quanto riguarda Charlotte, è che comunque era... Non voglio dire predisposta, naturalmente, a queste... A lottare, comunque, essere di buon livello. Però, comunque, partiva già... Con un discreto vantaggio, più che altro. Nel senso che si è trovata subito a suo agio sul ring. Tant'è che già da subito, quando l'abbiamo vista sul quadrato, dava comunque ottimi segnali. Poi, chiaro, ha dovuto crescere. Ed è cresciuta, oggettivamente, negli ultimi due o tre anni. Con le altre, con... Vabbè, a parte di Ona Porrazzo, che bisogna vedere cosa succede. La stessa Liv Morgan ha bisogno di tempo, lei, logicamente. Page è un altro che era predisposto. Page, più che altro, non partiva da zero. Perché, comunque, lottava già da diversi anni. Quindi, comunque, è già un discorso a parte. Con le altre bisogna avere pazienza. Per dire, anche con la stessa Tena Brook è partita da zero. E, infatti, ha bisogno anche lei di lavorare, oggettivamente. Per quanto sia migliorata già esponenzialmente rispetto agli inizi. Bisogna avere pazienza. Un aspetto importante della cosa che faceva notare Fabio prima è che, oltre al fatto che lo spazio è nettamente minore, anche il numero di lottatori maschi e il numero di lottatori femmine è un rapporto ridicolo. Quindi, è chiaro che quando hai 30 lottatori uomini puoi tranquillamente mischiare le combinazioni, provare a vestire meglio la cosa e coprire i buchi, tra virgolette. È un rapporto quasi di 1 a 6, se andiamo a vedere. Con le ragazze quello hai e quello devi provare a fare. Per ogni donna hai 6 lottatori maschi, quindi almeno. Adesso devo prendere il roster di NXT. Attenzione, poi, tra l'altro, perché comunque il roster di NXT non è più solo un roster di sviluppo, perché comunque hai gente che a NXT non ce ne deve stare. Vedi Nakamura, per esempio, che è un bene che da un lato stia a NXT per imparare più che altro l'ambiente. Ci sta anche un bel po', tra l'altro. Vedremo, vedremo se starà... La voce che avevo letto è che prende uno stipendio da Men Roster. È chiaro che prende uno stipendio da Men Roster. Quello era chiaro, però nel senso lo terranno i piani sono di tenere NXT per un po'. Vedremo, sì. Non penso che si faccia solo Dallas. Lui male non ci sta, visto che ci sono un sacco di suoi amici e ne arriveranno altri, quindi... Per dire, lo stesso Balor, secondo me, si fa ancora un bel po' di tempo. Eh, sì. Deve, deve... Questa storyline di Bayley e di Finn Balor deve sfociare in qualcosa. Che poi, tra l'altro, sono entrambi fidanzati. È sempre una pessima idea fare un'idea di questo genere, perché può portare a conseguenze private non... Ha senzato Balor? Sì, parse la faccia con... L'ultima cosa che avevo letto, parse la faccia con Sarali, da quello che leggevo. Sarali, tra l'altro, l'avete... C'era fatta Sarali, quindi. L'avete visto ultimamente? C'era fatta trombarsi un... Così dicono. Pronti via. No, tra l'altro... Beh, ma mica... Cioè, noi qua siamo pessimissimi, ma ci dimentichiamo che devono arrivare Mandy, Sarali e soprattutto Daria, che è stata accolta benissimo, a quanto pare, nei diavoli. Comunque, scusa Fabio, non ce l'ha fatta farsi uno qualsiasi, c'è fatto il campione. Il campione! Stai studiando da bella. Fabio, stai studiando. Stai usando per entrare nel team bella. Si applica. Fabio, parla il più piano possibile, perché distorci in maniera terrificante. Non so come mai. Io ho fatto quello copotuto. Lo so, lo so. È una cosa, evidentemente, delle regolazioni dell'iPad, più che altro. Stai usando l'iPad? No, adesso sono da computer. Eh, regolatelo un po' più che altro. Ho visto anche la sensibilità al minimo. No, no, ma proprio devi regolartelo, mi sa, proprio dal computer. O parli piano, non urvi, perché se urvi distorci in maniera terrificante. Diventa effettivamente molto inascoltabile. Mentre invece Bailey sta con un wrestler delle indie, già da diversi anni. Si, si. Si è visto anche a Breaking Ground. Si, esatto. Esattamente. Ma io di... Allora, la storyline di Bailey e Finn Balor è evidentemente diretta verso un sex tape, tra i due. Una live sex celebration, direttamente a un show. Perché se abbiamo avuto i due che fanno le entrate, il balletto, ma anche alla live sex celebration. Ovviamente non avverrà, però... Io se Anderson l'aveva soprannominato Can't Stop Slaying Pussyhut, un motivo c'era. Evidentemente il buon De Vitto, il buon Prinzo De Vitto, bastona. Pare che in Giappone facesse strage. Bastona parecchio. Buon per lui. Parecchia strage. Buon per lui. Buon per lui. No, ovviamente stiamo scherzando. Però più che altro è singolare anche vedere comunque quello che succede negli outshow di NXT. Pare che gli outshow di NXT siano molto divertenti per quel motivo. Al di là dell'ottato. Però si divertono proprio. Evidentemente c'è un rapporto comunque particolare tra Bailey e Prince David a livello di amicizia, intendo. Evidentemente hanno legato abbastanza. Sì, gli lasciano molto libertà. Sì, gli lasciano molto più liberi di fare i cazzoni sul rio. Poi in un outshow puoi vedere un match lottato di Tino Sabatelli e quindi è per forza uno show della Madonna. No, devi per forza dare qualcosa in cambio. E anche di Alia. Vedi, voi dite che la divisione famiglia è sabato. Cazzo, è vero Alia? Figa. Alia pare stia un pochettino migliorando. Grazie. Grazie, peggiorare è impossibile. Vero anche questo. No, stavo cercando più che altro gli ultimi risultati degli outshow. Non so se avete visto le foto di Sara lì. Ha messo su massa. È grossa? No, grossa no. Però ha messo qualche chiletto in più a livello di muscoli. Era proprio magra. Era proprio un chiodo. Se la guardi effettivamente adesso è molto più... Se tirava un po' di vento è piuttosto un po' più possente. Un po' più possente dal punto di vista muscolare. Gli ultimi outshow hanno fatto Apollo Cruz contro Manny Andrade. Alia e Liv Morgan contro Peyton Royce e Billy Kay. Madonna. Lewis Valenzuela Junior contro Chris Girard. Un'intervista di Ugo Knox. Poi gli American Alpha contro Enzo Amore e Big Cass, Blake Murphy e i Votvillans. Emma contro Dario Berenato. Sami Zayn contro Elias Samson. Madonna. E Finn Balor e Bailey Drifter. E Finn Balor e Bailey contro Samoa Joe e Nia Jax. Questo è il main event. Che gimmick del cazzo è il Drifter. Voi gli aumentate le edition stimolali e poi avete il Drifter che domina in quei edition. Madonna. Voi... Non capisco... Quindi non dovrei lamentarmi Fabio. Scusami il Drifter guarda che la gibbi del futuro. Non ho capito cos'è ma va bene. Vai affanculo tu e il Drifter. Che piace un sacco al pubblico. Guarda. Sì. Mettiamoci sotto la firma del Drifter. La firma del Drifter. E' proprio necessario. Assolutamente sì. Ma se sei un suo Mark fai il Mark e poi due secondi dopo lo neghi. Il Drifter. Io sono... Porta in fondo la gibbi. Io sono fermamente fermamente convinto che il Drifter che Elias Samson in realtà sia Damien Sandow. Se lo guardate. È vero. Damien Sandow sotto steroidi. Damien Sandow sotto mentite sfoglie. E Elias Samson. O è Damien Sandow o è la rincarnazione di Macho Man perché anche a Macho Man assomiglia un po' pochettino effettivamente. Pochettino. Ma è più Damien Sandow a dovesse dire. Sì. Era anche quello. Vabbè. NXT settimana prossima avremo un debutto. Diciamo che se avete seguito i spoiler sapete già chi è il debutto però non ve lo diciamo. Anche se è la stessa Davide B che l'ha spoilerato sostanzialmente il debutto ai tempi. Però non lo diciamo. Mentre per Lucian Underground abbiamo detto che abbiamo questi due match in programma mercoledì prossimo che sono molto interessati. Quindi dovrebbe essere una puntata carica a livello di storyline per quanto riguarda la prossima puntata. Poi si tornerà per NXT alla full sale per quattro puntate credo. No, forse anche meno. 9, 16, 20 no, 9, 16, 23 e 30 sì perché c'è il Go On Show e due giorni prima di WrestleMania. Quindi dovrebbero essere quattro o tre puntate per quanto riguarda NXT. Bisogna vedere la puntata. A meno che non registrino qualcosa come l'anno scorso da Schwarzenegger. al Columbo. Sì, ma mi potrebbe essere che va dopo Restellini. Potrebbe essere la puntata che va in onda dopo Restellini. Quello è la roba di Access. Tra l'altro se fanno qualcosa ad Access al momento hanno annunciato niente. No, se fanno qualcosa a TakeOver perché TakeOver parte alle 10 locali quindi... No, alle 9 locali. Alle 9 locali. No, sull'orario c'è scritto su WWE.org c'è scritto le 10 della costa est Ma dalla se un'ora in meno sono alle 9 inizia l'ora locale. Comunque parte l'orario di inizio di TakeOver e le 21 locali le 22 della costa est le 4 del mattino in Italia si l'abbiamo detto ma dicevo come quello che volevo dire è che come l'inizio è segnato non è segnato l'orario di inizio un'ora o un'ora e mezza prima come a Brooklyn o a Londra ma tieni conto attenzione tieni conto che Access è aperto fino alle 10 fino alle 10 quindi effettivamente probabilmente vorranno tenere la gente più possibile dentro Access per poi spostarsi lì a dove fanno lo show che credo sia abbastanza attaccato non vorrei dire una fesseria si ha detto neanche un isolato appunto esatto quindi vorranno tenere la gente il più possibile dentro Access per poi prepararsi per poi andare a vedere TakeOver che sarà in diretta sul network passando ad altre cose più che altro uscendo un attimo dal discorso luce underground e NXT parliamo un attimo di Ring of Honor per il pay per view che c'è stato vogliamo già parlare della notte tra venerdì e sabato praticamente è stato un pay per view buono dal punto di vista dell'ottato però onestamente se lo si perde non è che si perda moltissimo ma anche l'anno scorso l'anniversario non fu qualcosa di indimenticabile ai fini della storyline delle storyline non è cambiato assolutamente niente praticamente tutto inutile l'unica cosa è la riunione dei motos di machine a questo punto non so se verrà fatta se verrà verrà fatta a come si dice a se verrà fatta per per Supercard of Honor o addirittura per Best in the World perché Supercard of Honor non è un pay per view Supercard of Honor è un evento che andrà in high pay per view sul loro sito quindi probabilmente uscirà dopo un paio di giorni come l'anno scorso beh però hai comunque bisogno hai comunque bisogno hai comunque bisogno qualcosa per per diciamo per il weekend di WrestleMania a livello di match quindi si ma faranno probabilmente secondo me caricheranno molto sul match finale tra Kyle Riley può essere però comunque è ad uncolpio sai cosa magari puoi annunciare quello il venerdì e durante i taping il giorno dopo puoi fare la riunione dei motociti di machine guns hai due cose da vendere più che altro si si boh vediamo 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 i nostri vanno a vedere i taping il giorno dopo i taping vanno a vedere i taping di Arrow HTV ok si perché il venerdì anno è next venerdì anno hanno takeover giustamente tornando a ripeto non è successo moltissimo abbiamo visto invece con un shooting star shoulder block abbiamo visto un shooting star headbutt shooting star headbutt che non sono convinto fosse il piano no era troppo vicino c'era BJ Whitmer che era troppo vicino esatto no più che altro è stato un bello sciolivello di lottato però però a livello di storyline a parte motociti machine guns non è successo niente esatto no c'è stata l'entrata che vale l'entrata che varrà tutte le entrate di resta il mania di dalton castle bellissima bellissima tranne quella di russell col carro armato no no vale anche quella di russell l'esercito dei boys mi dispiace vince su tutto russell col carro armato secondo me nei secoli dei secoli parlando di quella di resta il mania quella di quest'anno con di triple h che secondo me userà sympathy for the devil dei motorhead potrebbe essere particolarmente interessante dipende come esce con chato naturalmente le grandi entrate del resta il mania ci sono quindi spero meglio dell'anno scorso la domanda è la domanda è come esce Roman Reigns esatto e come viene accolto nessuno avrà mai nessuno avrà mai un esercito di boys mi dispiace che gli fanno da scaletta umana piano piano bisogna vedere se dalton castle non arriverà mai in wwe durante la sua carriera non è detto eh ma sai che dubito che gli lasciano i boys in wwe non so beh dai dipende a NXT è solo è solo la TNA che gli ha cambiato i boys in girls quando ha fatto il match a cos'era X Division extravagante si ma io già mi immagino già mi immagino Vince che fa who is this fag c'è Goldas nel main roster perché non puoi fare dalton castle scusa hai avuto allora negli ultimi anni hai avuto hai avuto Rico hai avuto Vito vestito da donna che bello hai avuto Billy e Chuck hai avuto Billy e Chuck non vuoi avere uno che si circonda di due boys io non ti dico quello ti dico che ho paura di come lo tratterà Vince vabbè allora se facciamo questo discorso non facciamo niente allora direttamente nel main roster se abbiamo paura di tutto cominciamo a farlo arrivare in WDB che se lo meriterebbe anche anche se lui ha detto in intervista che in questo momento è esattamente dove deve essere però prima o poi se continua così mi sa che la WDB un occhiettino glielo butta è sempre solito discorso arrivano a meno che ripetono sei briscos che non ci vanno per ragioni personali quello quello è anche è anche un assegno abbastanza dotato quello è anche magari problemi o potenziali problemi dal punto di vista fisico comunque i briscos botte hanno preso hanno preso un'enormità in carriera no più che altro più che altro e Mark continua a fare dei voli fuori dal ring ma anche completamente pazzo secondo me più che altro più che altro è il back body drop fuori il back body drop fuori dal ring che ha preso da Elginer ho detto qua è morto adesso comunque la questione in WWE specialmente perché arriva da compagnie minori secondo me i test i test medici aumenteranno di parecchio dopo dopo la storia di Daniel Bryan perché comunque e pare anche Tyson Kidd che sia anche Tyson Kidd pare che Natalia abbia annunciato praticamente in realtà no perché se vai a vedere il post non è proprio l'annuncio di un ritiro onestamente però la situazione di Tyson Kidd è effettivamente incerta anche quella perché comunque ha avuto un infortunio assolutamente devastante anche perché credo che test e collo sono le due cose su cui ha dato la vita da poco non vogliono più mandare la gente allo sbaraglio e si vede anche determinate cose naturalmente bisognerà vedere quello che accadrà nei prossimi anni alla fin fine nei prossimi mesi per quanto riguarda Tyson Kidd e nei prossimi anni per quanto riguarda in generale il mondo del wrestling perché comunque è un mondo che anche dal punto di vista dei controlli sta molto cambiando credo per il meglio alla fin fine però sì assolutamente credo che le dirette conseguenze siano in generale delle carriere molto più corte o delle carriere più corte o più che altro un business più corto dal punto di vista degli impegni però non lo so vediamo già adesso rispetto a già molti anni fa le cose sono cambiate positivamente da quel punto di vista però vedremo cosa succederà nei prossimi anni adesso è assolutamente impossibile dirlo no tornando alla riguomo ovviamente non c'è molto da aggiungere relativamente se volete se volete vederlo guardatelo perché comunque sono due ore 45 circa di buonissimo anzi forse qualcosa in più di buonissimo wrestling senza senza problemi tenete conto che a livello di sviluppi di storyline non c'è moltissimo si punta di più secondo me perché praticamente era a parte qualcosa era un pay per view inter 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 promozionale è una un showcase un showcase per la ninja pen tra l'altro la ninja pen ha stradominato ma anche detto questo esatto vai vi ha perso Fabio mi sa in collegamento è in cavalca da cavalca tornati eccovi qua tornati se non si era già capito abbastanza durante honorizing esatto sono saltato io potete ripetere quello che avete detto se non si era capito abbastanza durpante honorizing qui è stata ancora acuita di più questo pay per view è stato come ti ho detto oggi in chat Yoda che cavalca Luke durante il ritrovo del genio che detta così sembra sembra come si chiama mi viene in mente non tanto Yoda mi viene in mente la versione di Obi-Wan Kenobi dei Griffin più che altro interpretata da Herbert contando come mi hai detto guardatelo guardatelo è la ring of honor di roba brutta raramente se ne vede no infatti merita di essere visto c'è buonissimo wrestling e poi comunque la produzione è ottima la produzione è molto migliorata negli ultimi nelle ultime settimane assolutamente finalmente gli show ring of honor sono luminosi tanto per cominciare hanno preso un nuovo sistema luci hanno cambiato anche le luci sopra il ring sei visto hanno proprio preso il lighting rig si chiama praticamente che è quello che ha anche la WWE e la Fimpine cioè il sistema di luci che c'è sopra il ring sostanzialmente non quello da Osho ma quello proprio da produzione tv la cosa buona è che vogliono investire speriamo che lo facciano esatto perché altro perché secondo me sarà prossimo il passaggio sul su quello che è ancora il Tennis Channel esatto il Tennis Network che domani potrebbe diventare il canale sportivo di Sinclair beh loro l'hanno acquisito alla fin fine potrebbe nel senso che se cambia comunque da Tennis Channel c'è nel senso che Sinclair ha voglia beh Sinclair se l'ha comprato diciamo che un po' di voglia per investire ce l'ha bisogna capire come anche per comunque la visibilità ancora bassa del Tennis Channel attualmente di investimenti in quel senso sì e niente no altre cose da aggiungere relativamente a Ring of Honor TNA no TNA no NXT perché non l'ho vista NXT luce underground non ne abbiamo direi di passare alla WWE è stata una settimana più che altro che ha vissuto su un ritorno e che ritorno direi anche quello di Shane McMahon rimango dell'idea che alla fine Shane non sarà nel match di WrestleMania secondo me non combattere quanto sta dicendo in giro che si sta allenando per combattere non ci crede vende la storyline secondo me sta vendendo la storyline vende la storyline sì anche nel video che hanno messo su YouTube della WWE dove spiegano chi è perché è importante lui dice il video se andate a vedere finisce con Shane avrà sicuramente un piano B perché dopo tutto è un McMahon diciamo che l'hanno buttata lì l'hanno buttata lì alla fine poi vedremo se sarà effettivamente sarà interessante anche vedere come risponderà l'Undertaker questo lunedì perché l'Undertaker sarà a Raw lunedì esatto come accetterà la cosa sappiamo che nel match ma sappiamo come accetterà il fatto di esserlo esattamente quindi vedremo vedremo che accadrà lunedì notte a Raw e anche più avanti perché tra l'altro la puntata del 7 se non ricordo male adesso controllo controllo un secondo la puntata di lunedì no lunedì 14 ci sono Shane Taker Lesnar e Triple H direttamente al taping il 7 ci sono c'è Shane e c'è Lesnar perché Lesnar non dovrebbe esserci questo lunedì il 14 ci sono anche perché il 12 dovrebbe anche non so se al momento ho annunciato però non sarei stupito se Rain saltasse anche i taping la settimana prossima e tornasse poi il 7 per via del naso per vendere la cosa del naso pare tanto che la cosa del naso sia vera nel senso l'ho sentito pare sia vera nel senso non si è infortunato durante l'angle però era una roba che si portava diciamo un piccolo intervento roba diciamo di poco conto il fatto che era probabilmente programmato è comunque del dato dal fatto che l'ha fatto a Tampa a casa sua praticamente non vicino dove hanno registrato che non ne ricordo dove è credo martedì erano in Indianapolis o in Detroit era dove erano ecco quindi credo che sia proprio una cosa programmata anche per questo probabilmente aveva già preso appuntamento diciamo concordato ovviamente infatti nel video confermo di Shane dice Shane non entrerà a Wrestlemania senza un piano di riserva dopo tutto è un McMahon quindi la buttano lì bisogna vedere chi sarà questo piano cosa sarà o chi sarà questo piano di riserva per quanto riguarda Johnny potrebbe essere Big Mac Johnny potrebbe essere John Cena Kurt Angle non credo sarebbe bello però l'unico nome che vedo è Johnny Boy Big Mac Johnny John Cena vedremo 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 stavo dicendo nel 14 c'è tutta quella gente anche perché nel 12 c'è lo speciale sul network esatto c'è tutta quella gente e dove il titolo WWE sarà in palio esatto vedremo non so se è un triple fret perché hanno tolto la pagina del triple fret magari potrebbe anche essere triple H contro Zack Ryder o qualcosa qualcosa di simile ci starebbe in storyline ci starebbe annuncerà difenderò il titolo contro un avversario mai affrontato contro un diciamo un mystery opponent esatto mai affrontato prima una prima volta nella storia della WWE Damien Sandow triple H contro Damien Sandow no non sappiamo chi non sappiamo chi potrà essere vedremo vedremo chi sarebbe il match sappiamo che il match dovevamo vedere a Preston Mania non lo scamperemo ma lo vedremo lì cioè l'esda contro Wyatt esatto no mafio di di boccia mania ha detto una cosa molto molto triste due giorni fa ma in realtà non è poi così sbagliata ha detto che praticamente è arrivato al punto con diciamo con la Wyatt Family è arrivato a tal punto che potrebbero tranquillamente star fuori quattro mesi dagli shot televisivi lui non sentirebbe la mancanza si è vero ha pienamente ragione non te ne accorgi neanche poi dopo il giobbone di Fastlane secondo me la credibilità è poca 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 ma il problema il problema è che noi ogni tanto lo diciamo sono diventati anche i loro promo dicono robe senza senso che tu li ascolti per 20 minuti e dici ok che cazzo mi hai detto la settimana dopo non c'è neanche più voglia di ascoltare cosa dicono le prime due volte era interessante perché sentivi Wyatt fare tutte le robe adesso quando arriva Wyatt sul ring con in mano il microfono prendo e schifo io tanto sai già che non andrà a parare da nessuna parte il suo promo e in più e in più a livello di booking li hanno bucati oggettivamente male la cosa singolare la cosa singolare è che comunque loro credo che ritengano la Wyatt Family ancora abbastanza importante perché comunque li buttano sempre in mezzo a angoli importanti alla fin fine però sono bucati talmente di merda che alla fine la gente non li prende su serio hanno un'altissima considerazione dei Wyatt il problema è che poi li mettono in situazioni a cui al pubblico o non gliene frega niente oppure tanto sai già che andranno a fare i minchioni contro il buono di turno che alla fine vince eh ma adesso quando Ryback entrerà nella Wyatt Family il problema essenziale è che poi è un problema che hanno tutti gli yield buona parte degli yield della WWE è che comunque fanno la voce grossa ma alla fine perdono come dei coglioni ogni feud in teoria questa è sempre stata però è vero che adesso si sta portando un po' all'estremo il problema è un esempio estremo però nel periodo in cui Punk è quello che mi viene in mente perché mi ricordo che avevo cercato un attimo nel periodo in cui Punk era nella Street Edge Society Punk non ha vinto un match o un feud per due anni o un anno un anno o due anni cioè per uno che tu costruisci come il e comunque vuoi tenere in alto perdere feud per due anni è una minchiata però a differenza senpai che non vince Wyatt vince il feud Wyatt vince Wyatt perde tutto l'anno se avrà Stellmania ha piani importanti allora vince il feud che ha nel periodo pre-Rest e poi riprende a jobbare però vedi a differenza da Wyatt Family è rimasto comunque over nel periodo della Street Edge Society per mille ragioni per carisma perché comunque perdeva ma comunque non dico veniva protetto ma comunque la sua considerazione era tenuta alta i suoi promo comunque erano sempre diversi sto parlando bene Sian Punks i suoi promo erano sempre diversi cioè almeno avevi comunque una ragione per vederlo qui non ce l'hai non ce l'hai non esiste non hai perché non si capisce un cazzo quando parla Wyatt ma oltre a quello è sempre tutto se lo capisci alla fine se lo interpreti è sempre lo stesso promo e con avversari diversi io sono il male assoluto io vi distruggerò io vi distruggerò bla 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 basta però è vero sì è vero è sempre la stessa cosa vediamo vediamo che succede le persone settimane a livello di a livello di Shane a livello di anche dietro le quinte perché comunque non si sa se Shane è tornato e avrà comunque un convergimento dirigenziale pare di no almeno per il momento però vedremo diciamo tutto come posso dire quello che succede quello che è in corso in questo momento può non essere quello che è in corso che sarà in corso tra qualche settimana è una situazione in costante evoluzione sotto ogni punto di vista lunedì credo che avremo diciamo un nuovo capitolo della faida di questa storyline perché comunque effettivamente martedì quando abbiamo fatto il post show ci siamo posti delle domande per esempio perché di Undertaker dovrebbe aiutare Vince McMahon esatto per cominciare questa secondo me è la domanda la domanda principale esattamente quindi vediamo vedremo vedremo che succederà nella notte tra lunedì e martedì vabbè parliamo di Roman Reigns perché comunque è uno degli argomenti principali di questi di questi tempi innanzitutto domenica lo mettiamo a Wrestlemania gli facciamo chiudere io non lo metterai nel main event non lo metti nel main event no nel main event faccio Taker contro chi sarà anche secondo me per un motivo molto semplice ok siamo in Texas Shane rischia di essere fischiato ma comunque Shane piace al pubblico quindi magari un po' meno fischi se li prende se tu metti Reigns col pubblico che hai a Wrestlemania finisci con Wrestlemania tra i fischi con il top face che in teoria vince la cintura quindi direi comunque una provocazione una provocazione bella grossa sarebbe Taker Hill tra virgolette ma Tato ma l'hai già fatto il Texano in Texas mi si frega ma soprattutto che non sarà mai Hill il thirdy Taker come becchino non lo puoi fare l'hai fatto come biker ma anche lì è stato un mezzo disastro no non è vero il thirdy non è piaciuto quando fece l'Hill guarda che non fu male no ma personalmente lo ritengo non mi è mai piaciuto come personaggio perché non l'ho mai ritenuto credibile rispetto a quello che portavo sai cosa quando fece il senso è che quando mi era ministro era il da becchino lì era però esagerata come gimmick lui era lui era praticamente un satanista durante sì sì me lo ricordo lui credeva lui credeva lui aveva fatto anche il promo dove dicevano che Marcallo si che che Marcallo credeva veramente di essere di Undertaker di avere i poteri fortunatamente non si ricorda più nessuno di questa cosa a parte noi però non è ci devo arrivare però in quel periodo comunque sicuramente non è credibile da il nel 2016 questo non è che 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 nell'ultimo anno era è stato il Undertaker non è che non è credibile nel 2016 non lo tifa come un esatto quello di sconso non è che non è vendibile più che non è credibile no puoi anche vendere ma tanto la gente non lo fischia perché comunque è una leggenda è come è come Ric Flair Ric Flair adesso è un heel in questa storyline però comunque la gente non lo fischia Ric Flair e non lo fischierà mai però lo propongono come heel cioè puoi proporlo come heel poi tanto la gente non lo fischia esatto perché è di Undertaker devi proprio metterlo con qualcuno che è amato dal pubblico se l'avessi messo per esempio con Daniel Bryan non in Texas avevi qualche speranza effettivamente di farlo se lo metti in Texas no se lo metti in Texas assolutamente no perché pubblico texano avanti cioè neanche per dire secondo me neanche con Ambrose che over 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 riesce a eh anche lì sì anche lì avresti problemi anche lì avresti probabilmente dei problemi secondo me perché è di Undertaker non per altro vedremo vedremo vediamo che succede in questa in questa settimana vediamo come evolve la storyline Roman Reigns invece abbiamo detto che per voi non sarà il main event di Wrestlemania per me no io vi ricordo che c'è Triple H io vi ricordo che c'è Triple H io dico dipende cosa vogliono fare se vogliono legare tutti i risultati magari con un filologico quindi magari vuoi fare qualcosa di grosso con Reigns magari può anche starci metterlo alla fine cioè se vuoi fare un racconto durante il Wrestlemania se invece è una cosa fine a se stessa sai cosa anche io ritengo che la scelta migliore sia mettere la linea sell se sarà la linea sell innanzitutto ma dovrebbe essere la linea sell poi tra l'altro dopo rispondiamo a una domanda dopo tra l'altro visto che ce l'hanno chiesto vi spiegheremo come faranno a fare la gabbia durante il durante il durante durante il durante il durante il durante il piccolo indizio andatevi a vedere il resto perché lì hanno fatto esattamente la stessa cosa esatto ma qui tra l'altro c'è anche il tetto quindi non hai neanche problemi sì sì non è assolutamente però bisogna vedere lo faranno col tetto quanto è alto il tetto il tetto guarda che il tetto di Dallas è molto alto esatto non ce la fai no sai cosa hanno ce la fai ma non no 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 il discorso è più che altro che comunque hai anche quei giganteschi megaschermi che però saranno molto sopra il ring un conto è Miami dove effettivamente erano c'erano questi megaschermi ed erano comunque alti ma non eccessivamente alti i megaschermi lo stadio di Dallas è altissimo quindi e i megaschermi non sono neanche così alti i megaschermi quanto sono i megaschermi era tipo 100 pollici qualcosa di più anche mi sembra quindi non sono neanche così alti i megaschermi di Dallas perché di qua c'era stata la politica sono grossi però sono grossi sono grossi quello è proprio il problema comunque va bene ne parleremo a tempo l'altra parte non so dovevete 100.000 posti quindi ne parleremo poi più tardi la questione di Reigns io rimango dell'idea che sarà il main event perché comunque al di là del discorso dell'incoronazione qualunque cosa abbiano in mente di fare con con il titolo c'è pur sempre Triple H e Triple H il main event mi sa che se lo prende per quanto adesso effettivamente se andiamo proprio a andare a vedere la situazione con Lanternino tecnicamente non è la posta più alta in paglio durante il pay per view questa qui esatto perché la questione del controllo di Raw della compagnia è comunque tecnicamente più importante se andiamo a vedere però per questo dico che possono essere legate le due cose perché probabilmente il vincitore potrebbe portarsi alla sua parte Reigns cioè magari se Shane però se tu fai vincere il titolo Reigns e lo fai intervenire a vantaggio di Shane McMahon comunque il pubblico non lo tifa anzi corri il rischio di far girare il Shane che è l'esatto contrario esatto ma secondo me io non escludo che giri lo Shane no non puoi no ma va ma sei pazzo ma come fai ma per tanto così tieni l'autority hai appena finito con l'autority le ne rimetti subito un'altra uguale identica cioè no ma sei pazzo per tanto così ti potrebbe essere un piano non lo so a lungo termine chiaramente per cosa a parte che tecnicamente non hai finito quindi ha ragione Fabio volendo può succedere qualsiasi cosa ma per tanto così perché allora riportare Shane McMahon la domanda è se il piano è tenere comunque un'autorità il perché da Shane McMahon perché fare Shane McMahon passare da Shane passare dall'autority a Shane McMahon è la stessa cosa infatti è una delle soluzioni ma non è neanche una soluzione non è una soluzione poi possono possono farla ma non è una soluzione eh lo sai e tenere le cose come sono ora per tanto così gli fai vincere Undertaker buona notte a secchio esatto vediamo vedremo non lo so perché comunque c'è c'è questa situazione curiosa per quanto riguarda il per quanto riguarda il come posso dire per quanto riguarda non dico la brand extension però l'idea di avere l'autority a Smackdown e Shane McMahon che controllano non con i restri divisi perché non hai i restri per farlo no non puoi farlo cioè io li hai li hai a livello a livello numerico ma non li hai a livello di start power però se tu ci pensi allora ogni volta che guardiamo la card di un house show diciamo minchia che merda minchia che merda esatto a questo proposito andiamo a vedere le card degli house show una cosa che si può fare una cosa che si può fare sai qual è piuttosto che dividere tutti i restri magari che ogni brand tra gli acoletti ogni show si prenda se ne prenda due o tre main eventer in esclusiva due o tre veste in esclusiva così il primo crei qualche main eventer in più no e poi il titolo fai un altro titolo no il titolo secondo me è interrosse cioè il campione appare in tutte e due show però alla fine ti rimane sempre il problema che puoi creare quanti main eventer vuoi ma tanto vanno sempre gli stessi secondo me la questione sarebbe l'avevo già incennato che più che regalare degli show divisi prima di regalare magari qualche certezza anche a chi compra il biglietto cioè nel senso magari mi annunciano della gente poi me ne trovo dell'altra quindi secondo me se so che è un show di brand tra virgolette marchiato o non brand marchiato so che ci sono quei tre o quattro main eventer e uno show di smetton so che ci sono quei tre o quattro main eventer cazzo meno male che la scozza era abbordabile oggi Fabio si 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 è visto si è visto si è visto si è visto no stavo cercando le card degli out show perché più che altro questo weekend non c'è Roman Reigns negli out show e quindi potete immaginare quali saranno le card per quanto riguarda mamma mia per quanto riguarda i paper allora ecco card del 26 26 febbraio andiamo a vedere i risultati per quanto riguarda la card di ieri sera allora Edge Styles contro Tyler Breeze e fin qui non è male questo può anche essere bello Baron Corbin contro Zack Ryder va beh questo è uno squash dai che bello questi si che sono i match che ci piace vedere Ryback soprattutto se Ryder viene squaccato Ryback contro Luke Harper che finisce per squalifica con l'arrivo degli altri due zozzoni e poi arrivano gli Usos risultato Wyatt Family contro Usos e Ryback cazzo Neville contro Stardust no non l'ho mai visto questo match va beh ma questo Stardust Stardust perde e chiede Stardust perde e chiede un altro match arriva R-Truth R-Truth contro Stardust fanno la gara di ballo no è la stessa cosa che facevano con Bo Dallas no arriva perde Stardust con l'interferenza di Goldust poi Kane contro Bray Wyatt in uno street fight con interferenze interferenze degli altri Wyatt e degli Usos ha vinto Kane eeeh andiamo poi Sasha Banks contro Naomi Shemus contro Mark Harry co-main event cioè prima del main event chissà che fiore di main event c'è stato Dean Ambrose contro Kevin Owens per il titolo in tre punti bello anche questo non è la prima volta però si fa specialmente in uno show i match già fatti li puoi riproporre perché comunque sono garanzia se sono bei match soprattutto ma se in questo show la card è stata quella nell'altro no non ce ne erano ieri sera fortunatamente figa meno male ah l'ho fatto una super card stasera stasera invece stasera invece ce ne sono due ce ne sono due stasera madò andiamo a vedere cosa ci aspetta cioè stasera per noi di sabato più che altro vediamo cosa ci attende dai noi ci lamentiamo ma se Dio vuole se le cose vanno così ci tocca il campione quindi più o meno forse possiamo mettere qualcosa di interessante ma dove nonostante il campione purtroppo e la family qualcosa di interessante con questi allora questa sera questa sera i tre principali annunciati per lo show di Louisville in Kentucky tra l'altro in un palazzetto da nome bellissimo si chiama il KFC Yum Center scritto YUM sono Kevin Owens Dean Ambrose Alberto Del Rio c'è anche Seamus e poi c'è Natalia questi sono i sei annunciati però c'è purtroppo un altro show in contemporanea a Cape Girardot nel Missouri credo che sia allo Show Me Center e i resti principali annunciati sono i seguenti Kane Bray Wyatt Ryback Rusev Big Show e Braun Strowman ci sono anche la Wyatt Family era un bellissimo Ruru non c'è da noi eh fai niente io voglio Kane soprattutto uno contro l'altro Charlotte Becky Lynch Lana i Dudleys gli Usos e New Day King Croster orrendo oggettivamente temo che sarei tipo Kane contro Wyatt di nuovo in un strip fight sai qual è la cosa positiva del nostro show ah no sai cosa sento anche sai cosa pensandoci sento anche puzza di o Ryback contro Big Show o Ryback contro Roosevelt cosa del genere perché di questo show comunque andiamo avanti no nel nostro show abbiamo almeno la sicurezza di avere un po' di divas visto che i maschi contemporaneamente sono in Medio Oriente sì esatto esattamente esattamente l'altra parte puoi anche avere tutte le divas che vuoi ma se poi mi fanno Cameron contro che ne sono Fox sono contento comunque Fabio io sì io sì tantissimo dettagli allora sto cercando le date di le date note per vedere se hanno per caso se hanno per caso in un messo del genere puoi urlare le peggio cose arrivano il 13 giusto poi urli le peggio cose e poi mi devo sentire te nel caffè che dici sono rispettosi per le donne perché urlano faccela vedere faccela toccare lui è il primo che lo fa allora al momento per quanto riguarda lo show italiano lo show italiano al momento hanno annunciato Roman Reigns Seamus Ryback Kane Bray Wyatt La Wyatt Family cioè Harper Rowan Strowman e Dudley al momento Divas non ne sono annunciate quindi noi dovremmo avere il roster con il campione mentre per Bologna adesso vado a cercare cos'è Milano no non è Bologna che cazzo sto dicendo Milano è Roma no? dove cazzo va? Milano è Bologna Milano è Roma Milano è Firenze Milano è Firenze sì scusa Firenze giusto Bologna era l'anno scorso per quanto riguarda invece lo show di Firenze che è previsto il 14 di aprile credo che il roster sia praticamente simile adesso vado vado a cercare sì confermo perché poi a Dubai ci vanno Ambrose Owens del Rio Big Show gli Usos i New Day e Sami Zayn mentre invece nel questi sono quelli annunciati mentre per quanto riguarda il roster italiano penso che bene o male siano gli stessi della sera prima al momento di Divas non le sono annunciate però effettivamente contando che in Medio Oriente le Divas non ci possono andare probabilmente saranno se non tutte qua comunque un buon numero un buon numero sarà da queste parti no sai cosa sai cosa magari le poi le ne portano comunque metà perché poi le altre magari non vanno a Dubai però si uniscono dopo e vanno a farsi il tour in Inghilterra sì comunque ne parleremo ne parleremo poi ad aprile del tour e no per quanto riguarda Rest Elmania ripilodiamo un attimo la card dello show così almeno vediamo anche eventualmente cosa potrebbe essere aggiunto lo diamo in in diretta nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile quindi c'è ancora un mucchio di tempo sul WWE Network su Sky AAA contro Roman Reigns per il titolo WWE per il WWE Championship Undertaker contro Shane McMahon in una linea sell se vince Shane otterrà il controllo di Rossi invece perde dovrà praticamente consegnare questa cassetta di sicurezza piena di segreti familiari o quello che è a Vince McMahon in più Dean Ambrose contro Brock Lesnar in un no all's bar match questo dovrebbe essere molto bello questo può essere molto molto bello secondo me questo come ho detto vince vincerà Lesnar probabilmente però Ambrose uscirà però Ambrose perde perde da eroe sì e poi spero anche vedendo come stanno le cose che magari tengano Ambrose Face in un modo o nell'altro facciano fare una randail a Reigns anche solo per cercare di riprendere il personaggio che in questo momento è pesantemente danneggiato da tutto e un regno titolato comunque non lo salverebbe sto leggendo due cose notevolissime la prima la prima è l'ultima notizia di KF News che dice momento io combatto con chi chiede un incredulo Undertaker e scrivi il leggendario è stato è stato abbastanza scioccato questa mattina quando navigando casualmente su Facebook ha trovato un post su un imminente match a WrestleMania contro Shane McMahon e poi ce n'è un altro che adesso che non possiamo dire che non possiamo dire in onda ma vi passo ve lo passo direttamente sulla chat di Discord sai cos'è gliel'ha comunicato con un tweet ok l'immagine del post che ho appena postato non è niente male no cosa potrebbero aggiungere a WrestleMania sei tu in quella foto non sono io non sono io ho denunciato gente per molto meno quindi smettila ho denunciato ho denunciato molto ho denunciato gente per molto meno per quanto riguarda match che potrebbero essere raggiunti tra storyline che stanno portando avanti questa questione di AJ Styles che è molto strana per quanto per quanto mi riguarda facciamo veramente AJ Styles e Jericho contro il New Day per i titoli di coppia No New Day alla League of Nations mi sembra evidente stanno portando avanti un po' di cose però effettivamente perché Styles e Jericho dovrebbero essere in teclima pensandoci questa situazione è molto molto bizzara sai potrebbe sai cosa potrebbe portare legandolo anche al tweet di Owens in settimana come è un triple threat avreste in media anche anche Owens, Styles e Jericho che non sarebbe niente male Owens, Styles per il titolo intercontinentale Owens, Styles e Jericho non lo so però devono prima costruire la storyline perché comunque effettivamente non hanno fatto niente cioè magari costruisci all'inizio costruisci Styles e Jerry come finti alleati e poi Owens che ne approfitta magari o interviene in un loro match cioè bisogna capire vediamo sì potenzialmente sappiamo già che Owens ha pronte la Styles a New York per il titolo tra l'altro sì esatto è un match tra l'altro anche molto bello quello che quello che vedremo praticamente in questa in questo in questo match temo invece che in questo evento in questo evento scusate non in questo match invece quello speciale di Toronto affronterà Big Show scusa? magari a Toronto affronterà Big Show può essere perché no hanno cominciato questa mini storyline il bello di questa cosa qui è che puoi portare avanti i storyline minori e nessuno si lamenta e nessuno si lamenta sì effettivamente su quello non sono non sono in disaccordo diciamo comunque hai già annunciato il trio di match principali e adesso puoi costruire con calma tutta la calma magari pover sfruttando lo speciale sì 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 e no stavo non mi veniva non mi veniva quello che dovevo quello che dovevo dire più che altro adesso 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 mi altre cose per quanto riguarda Restelmania che potrebbero venirvi in mente a livello di card oh per ora niente no anche effettivamente la Battle Royale eh quella 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 chi potrebbe vincerla ma la Battle Royale la stanno già sviluppando con questa cosa di Ryback e così via può essere uno tra uno tra Ryback e Wyatt sì secondo me è suscritto a Ryback con il profeo lì purtroppo anche se è Hill in realtà potrebbe vincerlo uno tra Ryback e Wyatt potrebbe vincere non vedo altri potenziali vincitori così da affermarsi un altro un altro match che vedo è Usos Dudley anche giusto perché non sarebbe probabilmente in una versione normale con la gente piena non sarebbe stato un match a Wrestlemania però la card è quella che è purtroppo il roster è quello che è sì esatto quindi un match del genere ci può anche stare e vedremo vedremo che accadrà praticamente a Wrestlemania per quanto riguarda per quanto riguarda questo questo evento anche se l'ho scritto nello Stanford Report non non è la miglior card possibile quella per quanto riguarda a livello anche di match potenziali rispetto al mese scorso c'è un netto miglioramento è evidente rispetto al mese scorso non abbiamo più Wyatt contro Lesnar però parliamone più che altro come posso dire come posso dire più che altro non mi viene una parola niente non mi viene una parola avevo un concetto in mente non mi è passato più che altro con questi sono quelli che hai esatto più che altro ecco ho trovato quello che volevo dire il problema è che per fare la car migliore possibile dovevi cominciare mesi fa ormai adesso è tardi esatto dovevi cominciare mesi fa e dovevi sperare che tutta sta gente sia in personata va buono va buono va buono allora cominciamo i commenti prima di cominciare il Q&A più che altro con le cose che ci sono arrivate oggi vorrei andare a riprendere quello che ci era arrivato per il post show di Ro che non abbiamo sfortunatamente letto più che altro perché non siamo riusciti nella serata di martedì mentre io preparo Whatsapp che c'è no niente mentre io preparo Whatsapp più che altro possiamo leggere qualche commentino che ci è arrivato direttamente sulle nostre fanpage che vediamo facebook.com slash TW resti in caffè oppure cercate tutto resti in caffè su facebook trovate la pagina direttamente nel nostro sito andrea canton shane resta anche con un ruolo dirigenziale per spalancare le porte del network all'asia ma contando che la sua compagnia grossissimi risultati non ne ha ottenuti in asia sfortunatamente tra l'altro lui non è neanche più a capo della compagnia perché lui ha investito 3 milioni di dollari ma adesso sono arrivati altri investitori con 10 milioni di dollari quindi ha ancora un ruolo di rappresentanza però a livello dirigenziale lui su you on demand mi sa che conta è vice presidente adesso non conta più non conta più come prima sulla storyline è chiaro che non potrà vincere vince tutta la linea qualcosa dovrà per forza cambiare nella dirigenza on screen non credo i rumors di uranestation sarebbe bello figure contrastanti che guidano in concorrenza raw con shane mcmahon e smackdown con la vecchia authority si l'abbiamo detto anche prima effettivamente non avrei nulla in contrario con un piano di questo tipo chi è? chi è che ha un campanile di fianco a casa eh? non io ho sentito un campanile entrare in cuffia neanche io allora era negro probabilmente e niga che gli devono ricordare sono io sei tu non posso dire non posso dire quello che ha scritto però va bene non posso immaginare allora hanno ricordato l'ora di andare a messa niga esatto allora sono andato a recuperare whatsapp allora sul serio shane contro te che faranno in modo di mettersi in una portavoce di shane vedremo vedremo fabio che simula un colt interrotto mi ha steso io l'ho incontrastato questo era martedì poi quando è che ha fatto il colt interrotto? non mi ricordo credo martedì sera ma non vorrei dire una fesseria sì ma non mi ricordo per cosa a una certa ora non so perché ah perché se parlate di colt interrotto allora io l'ho simulato ok non mi ricordo noto esperto del settore immagino era Dario che ha tirato fuori praticamente credo legata a Reins alla sua situazione della storyline sì che non potevi ormai hai fatto sei mesi o giù di lì non potevi non potevi cambiare i piani secondo me shane contro te finirà con l'arrivo di un debutto da NXT che porterà la vittoria di shane te che avrà costruito healing in questo caso pure sperano che il pubblico voglia shane a rota al punto dovrebbe perdere di undertaker secondo me il debutto sarà del balor club potrebbe però sono scettico sorpresa Ambrose per il resto del magno rendete permanenti i big guys cioè il cos'è il Ryback e no l'ha appena splittato quindi non puoi farlo sfortunatamente grazie a Dio aggiungerai ho una domanda sbaglio il segmento finale comunque ditelo bene the big guys ragazzi ho una domanda sbaglio il segmento finale è stato uno dei più violenti degli ultimi anni se non dell'era PG stessa no ne ho visti i più violenti no 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 ma se parliamo magari degli ultimi due anni quello può darsi forse sì perché hai visto il sangue però mi ricordo che anche si sangue che peraltro va detto che in maggior parte probabilmente era finto esatto anche quello anche vi ricordate quello dove ammanettara dove c'è sempre con Triple H con Brian quando lo ammanetta sì esatto quello fu più violento quello lì è stato bello violento non ci fu il sangue ma le mazzate furono tante e poi in generale tutti i segmenti da parere Lesnar sono sempre violenti sì il match tra Ambrose e Lesnar potrebbe essere sulla falsa riga del Lesnar contro Sina di Extreme Rules speriamo fu un gran match quello sì ma io credo che sarà più sulla linea di Punk contro Lesnar anche però se Sina contro Lesnar è meglio perché quello fu un gran match anche Punk contro Lesnar fu un match della madonna dai come mai Shane ha chiesto solo il controllo di Roy e non dell'intera compagnia che si possa tornare due rosse separati l'ho detto Vince di fatto perché comunque dove va una segue l'altra dove va Roy praticamente va la compagnia esatto comunque potrebbe esserci anche la storia di due rosse separati anche se ripeto secondo me più due show separate con due dirigenze con più due direzioni questa storia è sul controllo non potevano collegare nel match tra Triple H e Reigns magari Reigns con Shane della propria parte avrebbe avuto pubblico dalla sua parte e comunque avrebbe coinvolto anche Triple H no no e ormai per Reigns la situazione temo sia temo sia tardi per quel discorso lì per quanto riguarda Reigns più che altro perché hai fatto hai fatto danni nel mese immediatamente posto di traditolata Reigns Reigns secondo me ha bisogno veramente ha bisogno l'unica cosa che può salvarlo è veramente fare una randa hill dove spacca i culi e il pubblico a un certo punto perché spacca i culi da ring decide che può anche tollerarlo da face come praticamente è successo con The Rock e come è successo con Reigns Martedì mi hanno chiesto no ma lui era entrato comunque con la sua bella dose di fischi ed è finito strattifato per la sua che menava Triple H in maniera da come dovrebbe fare uno grosso due metri di 150 kg ci chiedevano martedì dove mi chiedevano me più caldo poca miseria che è successo che c'è non niente metti sul 206 e capisci per cosa ho detto poca miseria sta giocando il Crystal Palace per caso no no la Roma ah la Roma ok la metto sul 251 allora aspetta che faccio prima sta giocando Empoli-Roma ecco qua vediamo un attimo cosa hanno fatto perché non sto guardando Empoli-Roma in questo momento ah bellino sto gollettino di El Sarawi portiere parte un attimo in ritardo ma bravissimo Faraone che bell'acquisto che ho fatto però gliel'ha messa anche bene ritiro tutto quello che ho detto grandissimo gol mi chiedevano dicevo dove dove abbiamo noi perché non l'ho comprato solo io ma l'ho comprato anche gli altri la maglietta del Bullet Club Provest in Tease se non ricordo male giusto? sì Provest in Tease Provest in Tease oppure l'alternativa c'è lo shop europeo NJPW Europe Provest in Tease Provest in Tease costa dipende poi dalla maglietta che prendi costa 24 dollari la maglietta 8,99 8,99 di spedizioni ovviamente aumentano se prendi più maglietta sto guardando su NJPW Europe NJPW Europe costa 15 dollari e 99 quindi forse costa un pelino meno la fin fine leggermente bisogna ripicare quanto poi costano le spedizioni naturalmente Provest in Tease diciamo che per esperienza diretta le robe arrivano NJPW Europe ho letto commenti alternati però su NJPW Europe c'è più roba effettivamente se andiamo a vedere quindi e forse anche arriva prima perché per esempio su NJPW Europe c'è già la maglietta nuova di Kenny Omega quella 8 bit è molto carina tra l'altro su Provest in Tease le magliette sono anche belle di ottima fattura quella di Bullecaba è veramente fatta bene a livello di tessuto sono belle come quella di Edge per esempio recentemente ho preso anche quella di Red Dragon da Provest in Tease mi deve ancora arrivare però l'ho presa segnaliamo a chi ci ascolta che il prossimo grande acquisto a livello di maglietta è la maglietta di Pentagon Junior che abbiamo ordinato tra comunicazioni di servizio purtroppo la spediranno dopo l'11 marzo quindi dovremo aspettare un po' mi sa spero arrivi per Restylmania se non arriva penso che per il tour si faccia si faccia tranquillamente vedere e quelle le prendiamo da Luchashop che si trova il mio prossimo grande acquisto è la maglietta Combat dei Red Dragon che mi pigliano a Dallas esatto il sito è luchashop.com che a sua volta vi porta al sito che è muskerepublic.ecwid.com e trovate un po' di roba relativamente alla Lucia Libra in particolare la maglietta che noi abbiamo preso è la Seromiedo versione Perros del Mal che costa 22 dollari se non ricordo male era la Stable se non sbaglio esatto lui era parte dei Perros del Mal e ancora credo parte dei Perros del Mal solo che è morto solo che non c'è più cosa però la Stable c'è ancora naturalmente dicevo la maglietta con scritto Seromiedo con gli artigli dei Perros del Mal e dietro c'è la stessa cosa c'è lo 0 gigante con scritto Miedo sotto e i 4 artigli sullo 0 costa 22 dollari più spedizione quella credo che costi 14 dollari no quanto era? noi abbiamo pagato 22 euro alla fine sì perché alla fine la spedizione non costa tanto verso l'Italia ovviamente ci va del tempo perché comunque è un sito che spedisce che spedisce tutto il mondo però più che altro ha i suoi tempi non è per dire WWE Shop adesso a livello di spedizioni nell'America e negli Stati Uniti quant'è? due settimane anche meno credo sì perché loro usano il corriere questo è per arrivare qui perché io l'ho ordinate due settimane fa mi sono arrivato due settimane dopo esatto e tra l'altro l'unica differenza è che le spedizioni di WWE Shop costano molto di più dall'Italia ma perché la WWE usa il corriere mentre le altri tipo Pro Wrestling Tees usa la USPS sì usa la posta la USPS ci mette da le quattro settimane in su più che altro cosa che hai preso su WWE.com Fabio? te l'avevo detto ho preso le magliette quelle per mio nipote quella di Edge ma avevi detto un cazzo la Pro Wrestling Tees l'avevi prese vabbè tanto se dobbiamo prendere roba se dobbiamo se dobbiamo prendere roba avremo i nostri inviati a Wrestlemania quindi ci facciamo infatti io ho già mandato la mia lista io l'anticipo già ho un ordine di salse da fare quindi le farò prendere io più che della maglietta io più che della maglietta sì magliette io alla fine non ho granché da comprare no sì io da magliette belle dal fan che gli ho chiesto la maglietta nuova di Red Dragon quella col simbolo Mortal Kombat sì dovresti comprare una gazzis eh dovresti comprare non da Axis dovresti comprare sì no dallo show della Ringovone dallo show della Ringovone scusami gli ho chiesto se da i spots c'è una compilation di roba di Brian di Danielson se lo trova e poi ho chiesto i regali per Funk per Michael e il Negro oh mamma santa e poi vi dico cosa sono sì ok vai io se ci sono mi chiederò magari visto che sono con i guanti di AJ Styles sì quali penso che saranno in vendita sì perché sono già in vendita sul sito quindi no a proposito di 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 un video abbiamo parlato dell'ultimo grande un video della TNA vabbè dai no ma ci sta io lo compro è un modo di far cassa lo sapisco anche esatto sai qual è il problema perché questi video escono sempre quando la gente in W beh guarda Oga gli è andata male ha pensato bene di farsi beccare con frasi frasi carine nei confronti dei neri quindi insomma lì hanno dovuto anche ritirarlo dal commercio quella di AJ Styles a meno che domani non escono delle frasi omofobe nei confronti degli omosessuali cosa che peraltro non mi stupirebbe contando il personaggio non mi stupirebbe contando con il conoscendo i J esatto esattamente dovrebbero rimanere con me tra l'altro la cosa interessante è che il primo quadruplo DVD perché questo è un quadruplo DVD dai tempi di Jarrett se non ricordo male quindi è un trattamento comunque anche importante per quanto riguarda io lo prendo cioè tanto ne venderanno un centinaio non è che ne venderanno tantissimi io ti dico io dipende anche dai match che ci sono su però io un pensierino ce lo farei anche sì è un modo per conoscere AJ Styles al di fuori più che alto degli ultimi due anni in New Japan per chi non dovesse aver visto AJ Styles in Tiena se mettono i match giusti è comunque non c'è di biasimo non biasimo se mettono i match giusti è comunque un come si dice carino un buon un buon DVD sai cosa è una compagnia che comunque qualche soldino l'ha bisogno tra te che stanno cercando investitori pare quindi segno che le cose a livello economico non vanno bene sfortunatamente poi non parliamo degli ascolti quando firmano quando firmano la gente in esclusiva con i contratti garantiti questi si fanno male per sei mesi quindi capita eh sì povero Richards cioè povero Richards dipende dai punti di vista perché comunque nella sfiga gli va bene che ha un contratto adesso ah voglia forse ha un contratto garantito quindi qualche soldo lo vede adesso effettivamente ha un contratto con il downside garantito giustamente in più adesso sua moglie adesso sta per figliare o ha figliato non mi ricordo quando partorisce Angelina Angelina sì 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 sta per figliare se non ha figliato sta per figliare comunque quindi bene non bene non scusami male non fanno questi soldi da fin fine garantiti comunque sì per la maniera di Bullet Club Provest in Tease o njpw europe.com roba di Luce Underground c'è roba su Provest in Tease però c'è tipo tre robe in croce ho visto è un peccato perché hanno io non ho capito se hanno l'accordo con Luce con con Provest in Tease o se comunque hanno il loro store personale credo che abbiano l'accordo con Provest in Tease però credo il di fuori degli Stati Uniti lo store di Luce Underground consegna solo negli Stati Uniti che è un peccato onestamente è veramente un peccato perché comunque di roba carina ce l'è anche di Luce Underground direttamente però sentite se c'è veramente il mondo a livello di compagnia perché c'è la New Japan no ci sono tutti gli indipendenti e anche non sono lì dentro la gente appelesce la WWE c'è il suo store per dire lo stesso Gerico c'è il suo store su Provest in Tease la WWE non gli dice nulla anche perché comunque Gerico può esattamente e i Jay fino a due settimane fa ce l'aveva adesso ovviamente non ce l'ha più perché ha il contratto in esclusiva con la WWE tant'è che le magliette di Gerico la WWE non ne fa più perché probabilmente avrà Provest in Tease e se le tiene lui è vero effettivamente i merchandising di Gerico non ne è uscito non ci avevo pensato sono anni che la WWE non fa forse dall'orrenda maglietta wannabes può essere no c'è anche quell'altra dopo quella always imitated che è in Rupee che è in Duplicate una roba del Gerico che c'è dal funk comunque su Provest in Tease di roba diciamo che ne trovate dal punto di vista io di Gerico io di Gerico volevo prendermi la maglietta della persona della GPS prima o poi me la prenderò tra l'altro se ci state ascoltando immediatamente nella notte tra domenica e lunedì ci sono un po' di fino alle 6 di mattina di lunedì ci sono un po' di offerte per quanto riguarda le magliette su WWE Shop niente di clamoroso intendiamoci però per esempio la maglietta di una maglietta di Kevin Owens la Fight Owens Fight con il logo che io ho dietro invece che 25 viene venduta a 15 per esempio c'è le varie magliette che ho scritto ho subito una tombstone di Undertaker ho subito la Rack Attack da Nikki che erano brutte come il culo intendiamoci però vengono vendute anche quelle a 15 dollari stanno che Fabio non ha comprato quella della Rack Attack no e non ha comprato neanche la Stay Fearless le varie cuffie ok continuano a preferire la cara vecchia Fearless la maschera di plastica di Stardust viola da 10 dollari viene venduta a 5 le varie cuffie con i loghi dei dotatori anche lì da 20 dollari vengono vendute a 10 diciamo che roba figa non ce n'è c'è una maglietta di Duddy per chi vuole comprarla invece che 25 dollari ne costa 12,99 invece che 25 ne costa 13 via mettiamola così e basta ora non c'era qualcosa di clamoroso offerte per la versione americana dei videogiochi invece che 60 dollari 47 niente di clamoroso mettiamola così c'è la mag di Austin se vuoi il mag del podcast no la mag è la mag da birra c'è il boccano ma io volevo la mag quella che ormai probabilmente non c'è più che è greatest di Kane greatest director of operation si prova a cercarla c'è ancora prova a cercarla dici che c'è si c'è ancora gliela chiedo c'è ancora gliela chiedo se c'è gliela chiedo quello di Lesnar quello di Austin quello di Sina c'è un po' di roba c'è anche il set ma Sina non ce lo vedo con la birra Sina è uno da vino c'è il tratto la cosa singolare c'è il set con due bicchieri da birra 39,98 c'è il bicchiere singolo 11,99 che fai per due no voglio vedere voglio vedere quanti sono perché in realtà era 19,99 il prezzo del bicchiere singolo quindi probabilmente è per quello solo che non hanno scontato l'altro in questo momento se uno si prende due bicchieri singoli spende meno che per un reset di robe strato su WB Shop a livello di novità a livello di robe dio mio ho visto cosa sono ste robe qui i pupazzetti hanno fatto adesso ve li passo c'è quello di quello di The Rock quello di Brock Lesnar eccolo qua adesso ve lo vi passo il link i po' vinil tipo i vinyl ma non sono i vinyl sono un'altra cosa sono un'altra cosa ci sono bello Lesnar uguale no bello oh mio dio ma no ma non sono questi qua sono peluche sono non lo so si potrebbero essere peluche questi sono peluche sono brutti sono brutti come il culo va detto no no bello ce ne ho di molto simili di Breaking Bad sono solo che è brutto come il culo quello di Lesnar ci sono le magliette le magliette personalizzate dei wrestler irlandesi e inglesi con è praticamente quella con quella del Barrel Club solo che invece che essere bianca è verde bianco e rosso praticamente verde bianca e arancione era scritta esatto quella di Becky Lynch scusate Last Kicker quella con il logo di Page con la bandiera inglese sotto ma soprattutto ma soprattutto il vero nuovo grande articolo venduto sul WWE Shop sono finalmente usciti i calzini del New Day a 11.99 i New Day Socks sono finalmente usciti guardate che roba sono semplicemente orrendi sono semplicemente orrendi guardateli passa passa che voglio vedermi l'ho messo l'ho messo sulla sulla nostra chat sono veramente orripilanti sarebbero da passare a sarebbero da comprare a Michael ecco tu che sono uscite i vinyl delle Bella Twins se vuoi Fabio eh io comunque ne interessa solo una io comunque sono sempre proprio tentato di pigliare la maglia dei Social Outcast ma perché? ma per quale motivo? quale motivo? questo è bello no hanno fatto anche le magliette americane praticamente invece che Irish Pride e United Kingdom Pride hanno fatto quella con con il logo di Lesnar con la bandiera americana sotto quello il logo di John Cena con la bandiera americana sotto non so per quale motivo hanno fatto quella di Rollins se ti vuoi sentire un vero americano te le pongo vabbè hanno fatto il magnete la cornice praticamente con i loghi di Wrestlemania la giacca di Ultimate Warrior a 150 dollari e anche giacca stile agni 80 ve la faccio vedere è roba che se uno se la mette adesso è abbastanza abbastanza allucinante eccola qui c'è anche quella di Macho anche quella a 150 dollari proprio giacca proprio oldissimo style roba agni 80 proprio proprio da paninaro bellissima ma neanche onestamente la truzza c'è una maglietta nuova di Daniel Bryan che è un po' come l'ultima è quella del cartone del latte praticamente prima c'è scritto detto thank you si c'è scritto thank you e c'è scritto e altre cose clamorose non vedo non la prendo perché ce l'ho già uguale quindi la frega maglietta di AAA c'è la maglietta del trombone del memorial di Francesca che è scontato tra l'altro a 13 dollari fino alle 6 di mattina di lunedì e nient'altro no c'è una maglietta nuova di Nembrose che adesso ve la quella con il logo in fiamme più o meno il logo in rosso il logo in rosso che però c'è un momento solamente per donna e per giovane non c'è per perché probabilmente l'hanno finita l'hanno esaurita potrebbe essere a 20 dollari c'è invece il poster c'è il poster di Fastlane per chi lo vuole a 20 dollari figa lo compro subito se lo tengano grazie io per più preferito nella vita nella storia del mondo direi devo averlo poi tutti fuori a Sina con i 50 hai perso 50 euro Fabio che qui ci dicono ci ricordano dei 50 euro che hai perso non so per quale motivo quando eh non mi ricordo può essere che hai scommesso fatto una scommessa idiota e poi l'hai persa ci chiedono se rivedremo mai la J&J Security no direi intanto ho pareggiato l'Empoli ho visto le resti in memes che tipo avevano messo avevano fatto sta cosa dove c'era praticamente c'erano J&J Security che culo di gol l'ha fatto l'Empoli autogol autogol di mano di un giocatore della Roma tra l'altro allora J&J Security e Rollins poi c'era liquido mutagino delle tartarughe autogol di naso di un giocatore della Roma che non so chi è l'87 della Roma vabbè comunque dicevi scusa Fabio c'era la J&J Security con Rollins poi c'era in mezzo il liquido mutagino del trattarughe ninja e sotto c'era Rollins con Big Shoe Kane bella bella direi bella carina come cosa non sono un po' troppo vecchi Shane e Taker per mettere su una linea della Wrestlemania sì sono troppo vecchi assolutamente sì è anche vero che però è un match che comunque gli permetterebbe con i proverbiali smoke and mirrors di coprire eventuali loro lacune effettivamente perché la Bull la butti sulla violenza insensata e buonanotte se proprio devi farlo non penso lo faranno però se proprio alla fine sarà questo il match di Wrestlemania se Shane deve buttarsi sull'arcore lo può fare benissimo come se non l'avesse mai fatto esatto ovviamente non sperate in una caduta di Shane al tetto della gabbia più che altro perché la gabbia è altissima è molto più alta di quella del 98 e rischia veramente di lasciarci le penne tra l'altro giorno ho visto che ho visto Foley che moriva due volte sì e il punto più alto della carriera di Kane che poi viene distrutto il giorno ah pensavo il punto più alto della carriera di Mick Foley cioè fare gli autografi con la figlia no 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 eh vabbè ma tra l'altro vabbè ma perché la figlia fa gli autografi ma che cazzo ne so a me lo chiedi soprattutto chi cazzo vuole un autografo da Noel Foley beh perché è figa più che altro sì ok ma chi cazzo vuole un autografo da Noel Foley io più che un autografo vorrei una timbrata vabbè ok passiamo oltre per favore grazie e Fabio è d'accordo sicuramente con me passiamo oltre visto che ce l'hanno visto che ce l'hanno chiesto e adesso visto che ce l'hanno chiesto e come si dice e avevamo anticipato avremmo risposto a questa domanda come portano la gabbia se sono all'aperto allora innanzitutto dipende se lo show sarà all'aperto o al coperto se al coperto si possono volendo appoggiare al tetto se sarà invece all'aperto se il tetto secondo me invece sarà all'aperto sai secondo me lo aprono il tetto dello stadio perché comunque non penso che ci siano grossi problemi a livello di meteo per quanto riguarda aprile in Texas soprattutto in Texas esatto comunque se dovessero fare lo show all'aperto possono usare il metodo per Restylvania fatto a Restylvania 28 Restylvania 28 cosa fecero? lo stadio era all'aperto anche perché non c'era il tetto allo stadio al Sun Life Stadium di Miami cosa hanno fatto? hanno messo praticamente 4 megaschermi anzi in realtà non erano 4 perché era un megaschermo unico alla fin fine o comunque erano 4 video wall messi sopra il ring a quadrato praticamente uniti l'uno all'altro una sorta di di anello praticamente anche se in realtà era a forma quadrata dove proiettavano praticamente poi il pay per view durante il pay per view e le entrate anche durante durante lo show all'interno di questo di questo di questo praticamente quadrato di schermi hanno nascosto la gabbia hanno nascosto l'Elinacell che infatti al momento è stata poi calata e veniva praticamente giù da questo da questo quadrato di megaschermi e tra l'altro era molto molto innovativa come cosa perché anche io ai tempi avevo il dubbio come fanno a fare l'Elinacell all'aperto soprattutto costruire la gabbia sul momento non si può perché porta via minimo mezz'ora quindi non potevi non potevi assolutamente farlo questo modo di farlo è stato veramente molto molto innovativo e ha funzionato anche tra l'altro a livello e poi quando è finito hanno rialzato la gabbia e l'hanno messa l'hanno nascosta di nuovo dietro i megaschermi bisogna capire come monteranno l'impalcatura più che altro credo che ne monteranno una seconda sopra la ringa anche perché se chiudono il tetto è un po' un peccato che ci siano in mezzo col tetto chiudono è un po' un peccato che comunque ci siano in mezzo che ci sia un'impalcatura ecco sì esatto se invece lo tengono diciamo lo tengono come posso dire lo tengono tengono il tetto aperto dovranno per forza fare qualcosa sopra la ringa di nuovo più che altro tenendo conto che hai già dei giganteschi megaschermi da cento e più pollici che sono già presenti sul tetto poco sotto il tetto dello stadio alla fine lo stadio è veramente enorme quello di Dallas quindi dovranno studiare bene penso che la stiano già studiando anzi contando che siamo a metà siamo praticamente a fine febbraio non sarei stupito se la preproduzione cominciasse addirittura in questi giorni il che attenzione non vuol dire che fanno già il set che cominciano comunque a pianificare la roda a costruire il set di Restalmania ci vanno se non ricordo male ne abbiamo parlato dalle due alle tre settimane quindi costruire il set più che altro preparare poi tutto per lo svolgimento perché comunque la macchina produttiva da BBD è semplicemente imponente per quanto riguarda lo show di non di New Orleans quello dell'anno scorso di Santa Clara praticamente ci misero poi tre giorni tanto sei andato di nuovo la Roma ci misero di nuovo tre giorni poi dopo lo svolgimento l'evento per tirare via tutto che ovviamente è molto più rapido rispetto alla costruzione e alla pianificazione di tutto quanto non sarei stupito se cominciassi se praticamente gli addetti alla costruzione del tutto arrivassero allo stadio di Arlington già in questi giorni intanto non c'è un cazzo in questo periodo nello stadio dei Cowboys tra l'altro dovremmo anche sapere presto bene o male dove sarà Restalmania il prossimo anno perché comunque al momento non sappiamo niente a livello di diciamo di dove sarà la prossima edizione di Restalmania o vogliono fare come hanno fatto in passato annunciavano direttamente all'evento direttamente a Restalmania sarebbe una cosa che io adesso lo sapevi sempre prima sai cosa sì potrebbe anche essere tra l'altro avevamo detto ai tempi che era sicuro Minnesota ma pare si è saltata adesso quindi il nome che si fa per il prossimo anno è Orlando per quanto riguarda Restalmania che sembra praticamente fatta per Orlando però dicevano praticamente fatta anche Minnesota alla fine a Minneapolis più che Minnesota è saltato quindi attendiamo notizie ufficiali secondo me lo annunceranno prima non penso che lo annunceranno direttamente a Restalmania lo sapremo magari un paio di due o tre settimane prima se no vediamo vediamo che succede effettivamente sarei stupito se nella notte di Restalmania non sapessimo anche dove sarà la prossima edizione alla fine fine comunque non preoccupatevi è al massimo il primo al massimo intorno alla Restalmania lo diciamo noi dove si ok allora perché Restalmania è il tre è vero il tre è vero in riferimento in riferimento tenete d'occhio il John Trauser ok vabbè basta in una qualsiasi località d'Europa possiamo andare avanti per favore grazie allora ciao mi chiamo Bruno siete dei grandi vi scrivo da Via Reggio vi invito al carnevale volentieri però non riusciamo a venire fortunatamente però non piacerebbe tantissimo dobbiamo farne due il carnevale dobbiamo fare Via Reggio dobbiamo fare Ivrea se proprio vogliamo farci del male andiamo fino a Ivrea e ci prendiamo delle arance sul sul setto nasale riferimento a una domanda per il signor di noi addirittura ti chiama questa persona ah bene Lesnar non ha bisogno di vincere un po' come il signor Carlo esatto il grado di addormentamento effettivamente simile Lesnar non ha bisogno di vincere ci dice questa persona se potessero vincere Ambrose a questo punto lo fai diventare face di punta della compagnia che ne pensi? vero vero però lo fai anche ancora però visto che Lesnar Lesnar comunque lo tengono sempre molto cioè evitano di farlo perdere in tutte le maniere l'unico a cui l'hanno fatto perdere in questi anni è stato Taker e Sina e Triple H però da quando hanno iniziato a buccarlo nella maniera in cui lo stanno buccando adesso Lesnar è praticamente invincibile secondo me è più plausibile che facciano perdere Ambrose ma gli diano una vittoria alla Austin alla Austin contro Brett dove praticamente lo fai perdere ma perde da eroe perde non perché deve perdere non perché è stato sconfitto ma perché Lesnar ha dovuto fare di tutto pur di di tenerlo a terra e comunque aiuta entrambi Lesnar mantiene il suo status di imbattuto ma allo stesso tempo Ambrose viene elevato a livello di eroe totale perché non ha ceduto a Lesnar non è non è non ha ceduto non è neanche stato battuto da Lesnar cioè è stato battuto ma non ha perso è quello che si intende cioè è quello come Austin con Brett devono giocarsela molto bene però lì potevi anche farlo perché era un submission match questo è uno street fight match quindi devi beh lo fai lo fai andare lo fai metterne la kimura e lui e lui sviene sviene e non cede gli fai fare gli fai tipo lo fai tipo uscire da che cazzo ne so 3-5 sì lo fai uscire anche da una kimura già che c'è G6 e poi e poi dopo gli fa la kimura e lui e lui muore non cede ma sviene con la kimura ho capito puoi fare così come vedo un'altra persona ci chiede come vedo la questione Shane o Mac io ritengo che il piano A sia ancora Sina contro Taker ma non hanno ancora la certezza del suo rientro se riesce a rientrare Sina aiuta a Shane se non riesce a rientrare io penso che l'aiuto a Shane arriverà da parte di The Rock nel senso di solo interferenza nel match anzi e niente più il problema di tutto sto casino è che non è nemmeno la cosa più incasinata della faida perché Taker dovrebbe aiutare l'authority l'abbiamo detto prima lo scopriremo lunedì probabilmente non ci capisco niente quello che avevamo detto vai avevamo ce l'avevano suggerito durante il feud con con Lesnar per l'NSL Eiman dice che Taker ha dovuto fare un fatto con il diavolo esatto e Vince adesso si prende questo favore sostanzialmente indietro poi allora domande di Matteo92 due anni fa quando la Davide B ha preso a Kenta sia la federazione che i fan di Pinsero Kenta come più importante avrebbe essere giapponese non esattamente uno dei più importanti sicuramente con l'arrivo di Nakamura c'è la stessa cosa qual è la verità allora dovessimo vedere è uno dei più importanti è uno dei due top l'altro è Tananashi che però non si muove dalla Ninja Pen almeno per ora però in questo momento i due sono e non credo si muoverà mai più che altro Kenta era uno dei diciamo dei volti principali non tanto della Ninja Pen ma della Noah anzi no lui non è mai stato in New Japan è sempre solo la bandiera della Noah più che altro alla fin fine quando la Noah era anche comunque una compagnia messa molto molto meglio rispetto ad adesso dove di fatto è una succursale della New Japan tant'è che è gestita da e bookata ancora da Jado credo che è uno dei due booker della New Japan con Gelo comunque sì sono tutti e tre molto importanti i più importanti in questo momento almeno sono la Camorra la Camorra Tana era importante più che altro perché era uno dei restri di punta della Noah che in teoria negli ultimi in quel periodo era la seconda federazione insieme a New Japan credo che sia stata anche la prima in certi punti almeno la prima no la prima no perché c'era comunque l'All Japan no prima a livello di importanza negli anni di crisi della New Japan più che altro sì può essere non ne sono sicurissimo però può benissimo essere come si dice comunque è stato uno dei più importanti poi comunque era conosciuto in America perché lui aveva già fatto dei tour in America esatto non era proprio famosissimo in America però in America lui c'era già stato per citare una cosa perché comunque anche vai vai il match con Brian Danielson perché ai tempi la Ring of Honor collaborava con la Noa più che con la New Japan la New Japan è una cosa abbastanza fresca a livello di collaborazione insomma perché la New Japan e tra l'altro perché la New Japan più che altro ha collaborato in passato con la TNA però alla fin fine poi quella collaborazione è venuta meno e allora poi negli ultimi anni hanno cominciato a collaborare in quegli anni ti devo ricordare chi avevano usato come merce di scambio quelli della New Japan non mi ricordo sai Okada quello che adesso è campione che in TNA faceva il galoppino di Joe e non ha mai lottato Okato faceva Okato sì proprio Okato Okato era praticamente lui però con una maschera tipo come personaggio come Kato del Calabrona Merda esatto ah TNA TNA sempre ricollegandomi la domanda di prima come mai negli scorsi anni i principali prospetti delle indie presi dalla WWE furono cambiati i rispettivi nomi Steen David Generico eccetera eccetera mentre ora sta succedendo l'esatto contrario allora la questione di Generico è più che altro che non solo gli hanno cambiato il nome gli hanno cambiato anche la gimmick perché comunque la gimmick è completamente diversa David e Steen gli hanno cambiato il nome per motivi più che altro di possesso del possesso più che altro del marchio possesso del nome esatto per poter fare le robe di merchandise sugli altri tipo Samoa Joe e altri non hanno per il momento ritenuto l'opportunità di farlo per due motivi uno nomi già molto consolidati specialmente il caso di Steen e il caso di per esempio di Nakamura Nakamura se gli cambi il nome non dico lo ammazzi però quasi magari in futuro possono anche cambiare il nome però al momento non sembra quello il caso è un motivo esclusivamente di merchandising cioè di possesso del marchio tutto qua e poi tieni conto anche che dipende anche da chi sei per fare un esempio ok noi conosciamo Kevin Steen Prince David e così via potevano benissimo tenerli hanno deciso di toglierli se già AJ Styles lo chiami Uncle Allen già Stice sarebbe stato un bel nome sai cosa io credo che sia più una differenza a livello di piani nel senso su Steen e David mi sembra più su David dovesse dire che non Steen c'è un piano a lunghissimo termine ma anche su Steen ma anche su Steen ma non inizialmente magari su David secondo me ci puntavano già dall'inizio tantissimo possibile che i primi non devessero sufficiente influenza o peso contrattuale no non credo peso contrattuale semplicemente diversi piani anche perché quando l'han preso Owens l'han presentato come Kevin Steen su David e poi abbiamo a livello di domande Simone da Pinerolo eccoci qua eccoci qui quando meno te lo aspetti una buonissima puntata di Raw vedendo il ritorno di Shane sono rimasto incredulo che solo stamattina mi sono visto il video su YouTube almeno tre volte questo era sempre di martedì arrivato a Shane non sappiamo se lotterà se invece non lotterà il suo posto dovrà preso da Cena o da un Mr. X lui dice il Cena 80% secondo me Sina l'abbiamo già detto più volte vedremo che succederà se rimane per un certo periodo nel posto che piani gli facciamo fare a Shane piacerebbe vederlo come capo del Ballor Club o la guida di un'invasion di NXT l'invasion invece di NXT non ha senso anche perché NXT è comunque un progetto di AAA non ha senso che gli facciano l'invasione contro esatto poi comunque NXT è un oasi felice che è meglio non toccarli esattamente lasciamoli lì che stanno benissimo lasciamoli lì sono tutti felici portiamoli portiamo su Bayley che almeno portiamo su qualcuno ogni tanto però lasciamolo come un oasi felice dove comunque sappiamo che il main roster è il vecchio non ci mette piede ok da un big show che è tornato a face anche perché se coinvolgi NXT il main roster rischi di far fare la fine di quelli che porti su a caso per fare un'invasion a quello che è successo al Nexus esatto la cosa che mi fa ridere un po' del rest in generale è che la gente vorrebbe riproporre storyline che abbiamo già visto sappiamo che sono andate di merda e vorrebbe riproporle adesso perché dopo due tentativi deve per forza andare bene ma non è detto un esempio stupido quelli che adesso è uscita questa cosa del roster diviso in due del brand del roster diviso in due e la gente che scrive che bello che figata la brand extension è stata una merda per la maggior parte poi gli dici guarda che la brand extension è stata una merda io ti devo ricordare che nel 2004 c'era roba come Kenzo Suzuki contro Billy Gunn in pay per view grazie alla brand extension vi devo ricordare i match di mordicchio a me fa sempre ridere che a volte si guarda il passato mitizzandolo quando le cose che già non hanno funzionato una volta non capisco perché devono funzionare dieci anni dopo anche meno tornando alle domande e come l'effetto nostalgia sono sicuro che un giorno metteranno gli headbangers nell'all of fame e sentirò gente che mi dirà ah no ma gli headbangers erano un grandissimo tag team non è vero io sarò lì a guardarli con gli occhi sgranati a occhio vedendo questi 4 mesi di Resident Mania non è male ci starebbe un homens contro Styles sempre ci starebbe però devono costruire la storyline perché fino a questo momento non l'hanno fatto e basta direi a livello di domande non c'è anche perché questa cosa dei Y2AJ mi sembra molto come si un downgrade per Styles Y2AJ sì sì teoria sì poi passiamo invece a quello che si è almeno che ripeto come ho detto prima non porta qualcosa magari porta qualcosa non ci sono ancora Alessandro Lamon magari porta Portagerico che lo tradisce vediamo Alessandro Lamon o Lamon ciao ragazzi due domande possiamo considerare questo stint di Y2J il migliore degli ultimi anni tanto per le performance in ring che per i book beh peggio era difficile fare però stavamo effettivamente molto bene parte il primo periodo in cui feudava con i New Day sì assolutamente sì i Y2AJ possiamo considerarli un parcheggio momentaneo per entrambi in vista di Resident Mania o andranno proprio a Dallas contro i New Day conquistando i Tech Titles eh vediamo non lo sappiamo bisogna anche capire quanto rimane IJ dopo quanto rimane Gerico dopo il New Day la vedo anche contro la League of Nations ma allora allora giri il New Day perché il New Day diciamo che è talmente over che gira per forza lì quindi qui il ragionamento con me l'hanno fatto vediamo saluti da Venezia salutiamo non so quanto possa funzionare il New Day da face cioè è over come Coulil ma da face in New Day ah vabbè pertanto per una allora per una per una One Night Only sì non puoi fare secondo me non è tanto comunque la faida più o meno sta funzionando certo magari la puntata sarebbe meglio invece di fare i video su YouTube che sono tanto cari a Mattia ah beh ma sono per come ne parli mi sembra che siano cari anche a te in questo momento eh e non non dico tutti ma almeno uno porca troia dico uno ma almeno uno in puntata il porca troia credo che sia dovuto a un gol subito dal Crystal Palace credo se sbaglio e non stavo neanche guardando la partita ma posso posso immaginare io pensavo che fosse per i video di YouTube no 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 il livello degli avversari è altissimo ma a differenza di quelli fatti nei segmenti pre-match pre-show questi neanche sono stati citati nello show infatti ci chiedevano anche del diciamo dell'assenza di Owens e Ziggler diciamo beh li abbiamo visti a Smackdown tra l'altro anche una puntata non malvagissima di Smackdown niente di che no più che altro l'hai visto si lascia guardare si alla fin fine non non clamoroso onestamente come puntata ci sono molti riempitivi mettiamola così il pro iniziale di Triple H è forse il peggiore da mesi a questa parte madonna che palle troppo ne sentiva la mancanza posso chiedere una cosa a voi ma hanno fatto la cosa meravigliosa dove durante il pestaggio di Triple H i yes sono diventati dei boo no però gli hanno aggiunti i fischi quando è entrato gliel'hanno sicuramente aggiunti perché nei video package nei video package non li hanno credo neanche fatti vedere ah ok nel video package è stato abbastanza liscio nel momento dell'inizio della puntata all'ingresso invece i boo secondo me gliel'hanno aggiunti almeno a Smackdown possono farlo è comunque uno show registrato quindi possono farlo il problema è quello che accade è una delle cose che mi dà più fastidio di Smackdown guardandolo i cori i cori dittati aggiunti per far è uno show è uno show registrato lo so però mi dà fastidio sono sempre esistiti li senti che sono finti vabbè sono sempre esistiti si esatto lo so il bello è il brutto quindi poi saluti da Venezia grazie salutiamo Venezia anche noi ciao ragazzi complimenti come sempre il co e se Ander Tecker decidesse di combattere dalla parte di Shaina contro un altro uomo scelto dall'autority deve essere il però e chi sarà questa è una bella domanda però al momento no non vedo come perché Tecker debba lottare per Vince aspettiamo lunedì aspettiamo lunedì e vediamo che succede oppure Shane potrebbe assoltare un'altra leggenda a pezzo grosso per far combattere il posto suo che è esattamente quello che diciamo da diversi giorni Shane mi piace ma non su me scendere la gabbia non credo che regalere i bei bambi della volta grazie a cazzo a 46 anni lo credo anche gradirebbe credo poter continuare a fare surf con i figli come lui ha detto nell'intervista allo Yes Network critichino su Ropo Show il segmento di Shane è piaciuto moltissimo anche a me si è fatto prendere dall'emozione alla fine si è incartato salvato poi dal vecchio no si è incartato in una parte alla fin fine contando la reazione che ha avuto e anche la reazione del pubblico che ha avuto è anche abbastanza comprensibile comunque Shane è quello che ha bei gusti a livello di squadra a tenere ovviamente non tiene i Patriots ma almeno tiene i Knicks sì esatto Niccolò Cappellini in che giorno della settimana gli episodi di Arrowest TV vengono messi sul sito della Ringovono sei iscritto no attenzione sei iscritto alla Ringside Membership lunedì se invece non sei iscritto li mettono giovedì praticamente giorno dopo la messa in onda su Comet dove posso trovare il 14esimo anniversario completo legalmente sull'app Fight F-A-T-E che è quella di Fight TV che è quella di di Jim Ross no non è tanto di Jim Ross è di Flips Flips Media giusto? sì di Flips Jim Ross ha detto che dovrebbe avere una piccolissimissima percentuale tra l'altro dalla prossima settimana cominceranno le puntate della News Open su AXS TV con il commento di Jim Ross quindi Jim Ross esatto e quelle gli darò sicuramente un'occhiata secondo voi Randy Orton è vicino al ritiro Luca Bonavita no non credo è fuori è un po' che non si sa non credo che abbia moltissimo di carriere ancora davanti perché comunque lui ha lui ha beh no 35 anni può ancora farsi qualche annetto qualche annetto tra l'altro quello che era uscito un po' di tempo fa era che comunque ci stavano andando piano con Orton perché avevano paura che anche lui avesse avuto delle commozioni come Brian quindi stavano aspettando un attimo e poi visto che i problemi erano comunque i problemi che continuano ad avere sono cronici erano anni erano cronici stavano 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 aspettando stavano aspettando e poi anche per quello che lui non si sente più non ne parlano da un po' il senso della difesa vai scusami è un po' che è veramente sparito sì beh lui è da cos'è? novembre più o meno secondo voi no scusami già letta il senso della difesa del titolo di Triple H prima di WrestleMania vendere lo speciale sul tempo vendere lo speciale esatto solo ed esclusivamente quello alla fin Moreno Bernasconi una richiesta per la notte degli Oscar che noi commenti se ci state ascoltando di domenica adesso sono tipo le due se ci avete ascoltato subito quando abbiamo messo il file online dalle due e mezza commenteremo la notte degli Oscar se vince Leonardo DiCaprio che dico che uno di voi è un video straight is over no anche perché sarà nel cuore della notte quindi è un po' non credo vinca stamattina mi ha scritto tu dici che non pensi vinca Andrea sai che pare che vinca quello di Danish Girl secondo me non vince ok pare che vinca quello di Danish Girl che pare che sia abbia fatto un'interpretazione della Madonna che è quello che ha fatto Stephen Hawking l'anno scorso giuro rido per un mese se non vince ancora DiCaprio io sinceramente credo che possa vincere Cranston a mani bassissime sai qual è il problema di DiCaprio che DiCaprio ogni volta che va per gli Oscar trova qualcuno che veramente che è più bravo di lui in quell'anno che ha fatto il film della vita sta facendo la recitazione di una Madonna però trova sempre qualcuno che ha recitato meglio di lui in quell'anno qualunque cosa si possa dire l'anno di The Wolf of Wall Street c'era Dallas Buyers Club e Dallas Buyers Club non era facile sì esatto non potevi McConaughey non potevi batterlo no lui tra l'altro neanche proprio io diciamo nel periodo di Titanica quando già l'ho considerato di sto grandatore io DiCaprio non lo sopportavo oggettivamente oggettivamente negli anni successivi diciamo da 4-5 anni dopo quei film ha cominciato effettivamente a fare dei grandissimi film a livello anche di recitazione più che altro ho voltato definitivamente pagina a livello di giudizio di cofurti DiCaprio quando ha fatto Django Unchained quando lì ha fatto una grandissima interpretazione e ne ha fatte anche altre naturalmente nel frattempo però io personalmente ho voltato ho cambiato giudizio di lui su Django Unchained infine Pietro Falcucci quando c'era ancora la divisione dei roster qual era lo show più seguito? Smackdown ma per il semplice fatto per il semplice fatto era bucato da Eman no per il semplice fatto che era in chiaro mentre invece Raw era a pagamento in quel periodo mentre Smackdown era in chiaro su UPN Eman è un fumo nel DVD si omette sempre il fatto grazie al cazzo se è in chiaro lo credo anche che fai più ascolti battevamo Roney Ratings e certo ciccio però eravate anche in chiaro ed è logico che vi devono più gente esattamente secondo voi sarebbe conviene di tornare alla vecchia formula in questo momento no perché non hai la gente per farla molto semplicemente in futuro devi costruire la gente perché comunque devi tenere due roster di fatto uno contro l'altro da Finn Finn per tenere su una brand extension noi lo facciamo nel WWE Universe però la buttiamo anche in vacca da maggior parte di casa esatto io devo ricordare che ho Mr. Smackdown nel mio ed è uno degli uomini di punta del suo roster praticamente ed è un jobber nel senso che non ha vinto ancora un match da quando no uno l'aveva vinto no 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 ha perso tutto no ha perso tutti i match è tipo 0-5 a livello di ruolino 0-5 è vero c'è ragione riprenderemo tra l'altro con lo Universe appena possibile non ci siamo dimenticati ce l'abbiamo nel palinsenzo no no ce l'abbiamo manca le storyline esatto però purtroppo manca purtroppo il tempo va buono direi che possiamo fermarci qua per questa per questa settimana grazie per averci ascoltato grazie a Fabio De Nardi ciao grazie a Mattia Di Noi hey wey mamma mia mamma mia la fritta nel piatto è mia cosa stai dicendo cazzo non lo so ho detto una roba cazzo siamo al delirio esatto e grazie di Andrea Negro chiudo il sonno ecco hai rubato la gimmick di di Mattia in questo caso grazie a voi ripeto che ci avete ascoltato allora vi ricordiamo gli appuntamenti in radio per quanto riguarda questa settimana stasera lunedì non so cosa faremo se vogliamo fare total divas perché abbiamo quattro puntate da recuperare quindi io sono fuori mi dispiace ok e allora visto che non ci sei magari facciamo noi universe stasera visto che è un po' che non lo facciamo e vediamo dai vediamo vediamo come come arriviamo e ah no no cazzo stasera c'è la partita giusto qui c'è c'è Fiorentina-Napoli stasera che dobbiamo commentare alle 21 quindi io e io e l'avvocato o o non lo so perché bisogna vedere quanti siamo per commentare la partita anche comunque vabbè il piano dovrebbe essere Fiorentina-Napoli poi se cambiamo vi avvertiamo domani sera Milano-Alessandria alle ore 21 Radio Show alle ore 23 mercoledì Juventus-Inter e poi domenica ritroviamo con i pallonari tutte le solide cose con il caffè invece tra domenica e lunedì prossimo con appunto tutto quello che sarà successo in questa settimana grazie ancora per averci ascoltato rimanete con tuttoressi.com e alla prossima buona settimana alla prossima bye bye ciao ciao